Inizio ma hanno ancora messo, ok. Il caos, ragazzi, il caos. Io con questa maglietta, e poi parleremo della Tirreno Adriatico, inauguro la serata. Il caos. Allora, la Tirreno è stata calcolata adesso. Chissà per quale motivo il caos, chissà per quale... Eh, perché per tanti aspetti le plusvalenze e le minusvalenze, avendo due gare così in contemporanea e due gare abbastanza grosse, perché comunque sono categoria 3, quindi sono subito dopo le Monumento e i grandi giri, e chiaramente creano dibattito anche tra di noi, anche perché, vedi, giustamente, perfetto, io ripropongo la mia maglia, la mia. No, creano dibattito perché il primo problema è che ci sono dei corridori che costano tantissimo, di cui si aspetta il risultato. Poi è chiaro che tre tappe vinte per Roglic e Pogaccia, come si chiama la live, no? Dominio sloveno, ci si aspettavano? No. Una tappa di qui, due tappe di là, però tre tappe, tre maglie, hanno dominato. Allora, Pogaccia è fortissimo, eh. Ha stracciato tutti, c'è di nulla. Di là ho i miei dubbi, scadenti, scadenti tutti gli altri. No, di là ne parliamo, ora facciamo due capitoli a parte, eh, nel senso. Ora facciamo due capitoli a parte, perché io sono arrivato dalla vacanza, Roglic ha vinto così e senza nemmeno impegno. Ha fatto una buona gamba. Come se corresse con le Juniors, così, vabbè, vabbè, però a parte... Io non mi ricordo un attacco di Roglic in queste sette tappe. Non aveva bisogno. Ok, ok, non me lo ricordo. Sono gli altri che si annullano da solo la propria forza, capito? Non ce n'era bisogno. Ha giocato, ha giocato Roglic, mi pare, eh, proprio in scioltezza quasi. Ora tanto, fra poco arriva il magro a dire la sua, fra un pochino entrerà. Il Bertha sta calcolando, quindi io, alla cellulare alla mano, ero quindicesimo, prima del calcolo della Tirena Adriatico. Io non ho Roglic, muovo Almeida, quindi voglio vedere cosa cazzo è successo. Decimo, attenzione. Attenzione. Decimo il campionato. Incredibile. Incredibile. Ho recuperato altri cinque posizioni con il mitico, gioavo Almeida senza Roglic. Quest'anno il quarto posto non te lo toglie nessuno. Il Bertha però mi ha recuperato, è lì a 600 punti. Albertino Pistolero ha quasi 2.000 punti. Albertino Pistolero. Come vedete la sportività prima di tutto. Oh, grande magro. Ciao Magro. Grande magro, ciao, ciao. Ciao Magro. Mi sentite? Magro, sono decimo il campionato. Sei forte. Io sono sette millesimo. E beh Magro, ma te qua ti cambisciai, qua ti cambisciai. Tutti. No, io mi sono perso nei campionati. Te pensa che alla Parigi inizio sono andato con tre corridori in una Lega. Quindi pensa un po'. Il campionato me ne mancava due, tre. Lo stesso alla Tirreno. Non ho avuto tempo di stare dietro. Sinceramente non sono stato troppo dietro, anche se ci sto dietro, ma non come si deve per fare dei risultati. Io un po' caccia, ce l'ho. Ma te pensa? Io c'ho il Roglic in squadra, nella Lega non l'ho neanche schierato alla Fisena. Penso un po'. Eh, quello l'ho sentito in un diretto che l'avevi detto l'altro giorno. L'avevi detto l'altro giorno. Allora Magro, te sei qui ovviamente, poi si parla di Parigi inizia, Tirreno Adriatico, eccetera, eccetera. Gli sloveni, poi le critiche che vi fanno sul fatto che siate pro Pogacar clamorosamente. Quindi parliamo un po' di tutto, no? Non ho sentito niente, Fede. Fede, non ho sentito niente perché mi sei raffrizzato. Riparti. Ok, te lo ripeto. Te sei qui, sicuramente si parlerà della Parigi inizia, della Tirreno Adriatico, del fatto che vi criticano perché siate troppo pro Pogacar. E come fa a non esserlo, scusa, eh? Eh, ma qui ho letto messaggi sui social, sulle chat varie, che no, ma così è troppo, eh, vabbè. Bisogna, no, perché Magro bisogna essere non proprio Pogacar, bisogna essere pro Mass. Bisogna sponsorizzare Mass che ci fa divertire tanto, capito? Anche l'Anda. Anche l'Anda. A proposito di Landa, fermo. A proposito di Landa, mi hai dato il gancio, Magro. Allora, a proposito di Landa, sei qui anche, ci togliamo subito il sasso, no? Visto che ci siamo già 400 persone, ci togliamo subito il sasso. Io so, e Greg me l'ha detto, me l'ha detto su WhatsApp, che è stato inserito dal suo punto di vista, Landa, nel libro che uscirà a breve, è già uscito, il 10 mi pare che è uscito, se non sbaglio. È uscito ieri l'altro. Sì, diciamo avete raggruppato i grandi scalatori in questo libro, che è già uscito appunto due giorni fa. Raccontaci sto libro, cos'è? È un po' il tuo preferito, il suo? Hai già sbagliato, hai già sbagliato. Noi non abbiamo raccolto i grandi scalatori, abbiamo raccolto come fa Mullah quelli che ci garbano a noi. Se a lui di Garbalanda ce l'ha voluto mettere, io chiedevo qua. Però è una bella cosa. A che pagina è Magro, Landa, tra i grandi scalatori? È sparito. Ora no, ora te lo dico. Sono a sbagliarlo. Vicini alle nuvole, ricordiamo il titolo. Fa vedere il libro, aspetta, va, lo volevo mettere io, ma se lo fai vedere te. Aspetta, 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 aspetta. Vai. Vicini alle nuvole. Vabbè, la copertina, la copertina, vabbè, chapeau perché voglio dire, insomma. No, è un bel libro, devo dire che a differenza di Fagianate, Scatte e Scie, che era un po' un dizionario delle bischerate che dico io in telecronaca, questo è un libro dove raccoglie diverse testimonianze su alcuni corridori che io ritengo siano veramente stati più grandi scalatori. Battaglini per me, dopo il Panta, è stato il più forte in salita. Vanimpa ha vinto sette maglie a po' a più due, mi sembra, o forse tre, maglie verdi quando c'era la maglia verde al Giro d'Italia. Quindi io poi ci sono stato in squadra tre anni e so quanto ci teneva. Poi c'è stato un omaggio a Scarponi perché comunque ci ha fatto emozionare in salita, ha fatto delle grandi cose, era uno scalatore anche lui. Froome, come fai a mettere il fulgatore? C'era parte della stana di Nibali al Tour e di Nibali al Giro, insomma, voglio dire. Esatto, ma poi ha fatto vincere un Giro d'Italia a Vincenzo. Froome, come fa a mettere il fulgatore? Il fulgatore, ragazzi, in salita, quando frullava, era veramente forte. Chiappucci è stato uno scalatore importante anche in Italia. Quindi, insomma, noi abbiamo un po' legato i nostri sentimenti, le nostre preferenze a questi scalatori moderni che non sono... Perché se te fai un libro degli scalatori ci vuole un'enciclopedia. Cioè, vogliamo andare a prendere Trueba, Canardo, Bahamontes, Gaul... Cioè, finisci mai. Però, correggimi se sbaglio, Magro, il termine scalatore oggigiorno è un po' in disuso perché ormai sono multidisciplinari, no, i corridori? Volata, cronometro... Cioè, secondo te, dove si ferma il termine scalatore? A quali anni? Scalatore puro? Ma gli scalatori ci sono ancora. A Randa, per esempio, è uno scalatore. Va da nessuna parte, solo salita, va. Però, scusami, Magro, eh. Ora, vabbè, Greg ce l'ha voluto mettere, va bene. Però, sono convinto che in quel libro lì ci sono scalatori, ma che comunque hanno vinto anche cose importanti. Esempio, Chiappucci non ha mai vinto un grande giro, però ha vinto corse importanti. Tra cui, a caso, la Milano Sanremo. Pantani ha vinto quel che ha vinto. Cioè, i nomi che hai fatto te prima hanno vinto tutti. Landa, per esempio, sì, va solo in salita, però il palmarès di Landa non è quello dei grandi scalatori. Poi io sono pro Landa, eh. A me piace, però... Infatti, cioè, è come quando dico il microfono ce l'ho io e dico quel cavolo che mi pare a me, come il pallone ce l'ho io e giochi mi pare a me. Il libro l'abbiamo fatto noi, e insomma, se vi pare, se vi pare bene, lo comprate. Se no, è pace. Io credo che sia un bel libro perché... No, il libro, la parte di Landa l'ho scritta io e ce l'ho messa. Infatti va bene. No, ma in effetti, allora, potevamo farne qualcuno in più. Siamo stati abbastanza combattuti, però dentro il libro ci sono anche delle testimonianze dirette, ci sono degli aneddoti inediti. e quindi è un libro che secondo me è un bel libro, un bel volume, perché comunque è un volume consistente, non è un volume... Quante pagine ha, Mario? Guardate, mi fa delle domande. Perché se la gente poi... Mario, quando passi per Belluno voglio vederti. 222. 222. Quindi, insomma, è un bel... È un bel mallopotto di roba, dai, bello. No, te l'ho detto, c'è una bella... Ci sono anche le fotografie, eh. Non è che... È un libro... No, è impaginato bene, o Epli fa delle belle... Fa delle belle opere. Noi facciamo parte di una collana che ci ha chiesto... C'è una collana che ha fatto Alessandro Bonan, ci chiese appunto, gli mancava qualcosa sul ciclismo, e noi abbiamo pensato... Cioè, sul ciclismo c'è tutto. Ci sono ritratti di corridori, ci sono libri su Coppi, su Pantani, su... Cioè, noi abbiamo racgruppato un discorso, per esempio, nella prefazione di Mauro Corona, che il filosofo lo sa, cioè, scalatore... Giusto, Marco, no? Scalatore... C'è dentro uno che scala le montagne, però, perché Mauro Corona? Perché lui è un appassionato che segue sempre le nostre telecronache, e quindi gli abbiamo chiesto la prefazione, e nella prefazione lui lo specifica. Mi sarebbe piaciuto Simoni. E' vero, Simoni era uno scalatore, però, per lo stesso motivo che dicevi prima te, Federico ha vinto anche altre corse, cioè ha vinto Giro d'Italia, non è che ha vinto il Gran Premio della Montagna. Lo scalatore... Lo scalatore è perché fa venire la pelle d'oca... Come fai? Fogaciar non ce lo metti? Sì. Fogaciar è un corridore che l'abbiamo messo fra i fuori classe, però... Cioè, perché chiamare lo scalatore è riduttivo, secondo me. Sì, però è uno scalatore, anche lui, no? Cioè, non ci si è messo Wingergaard perché... Che scrivi di Wingergaard? Non si conosce. Cioè, noi qualcosa... In questo libro bisognava che ci scrivessi qualcosa. Certo, cioè, dentro del personaggio ci deve essere un racconto. Esatto, se fai un libro statistico, allora sì, ma questo non è un libro statistico, questo è un libro che parte con le grandi salite e uno magari può dire sì, ma nelle grandi salite c'è anche l'Avesone, perché storicamente riporta alla prima vittoria di Fausto Coppi, ma non l'abbiamo messo l'Avesone. Le grandi salite sono il Mortirolo, lo Stelvio, lo Zoncolan, in Francia c'è l'Isoar, c'è il Tourmalet, c'è queste grandi montagne che hanno fatto un po' la storia. Questo è un po' il libro. Io, Magro, ti posso dire una cosa? Per esempio, uno scalatore, no? Che non ha mai vinto quasi nulla o poco più, no? Altro che Maglie Verdi al Giro d'Italia, perché prima erava verde e non blu. A me Cepe Gonzales, a me mi trasmetteva qualcosa. Eppure ha vinto poco, qualche tappa, la Maglia Verde. A me Cepe Gonzales, proprio scalatore, mi trasmetteva qualcosa. Allora, fallo te, un altro libro. Tutto è su Cepe Gonzales. Cepe Gonzales, ci metti Peresquapio, che, insomma, questi grandi scalatori di un tempo, Gimenez, Fuente. Ma guarda che, allora, io ti posso... Magro, il tuo preferito chi è? Il tuo preferito? Beh, il mio preferito è Panta. No, vabbè, ma Pantani non vale, però. Pantani non vale. Infatti ho fatto male la domanda. Stacchier, il tuo preferito a parte Pantani? A parte Pantani. Ma il mio preferito, per averci... Simpatia, così, insomma. No, per averci passato... Vabbè, se me lo dici ora, con quello che ha fatto vedere oggi, io fugaccia. Però, però non lo posso dire, perché sennò mi accusano di essere tifosi. No, invece lo puoi dire, lo puoi dire. No, il mio preferito, sono tutti i preferiti. Questi che sono nel libro, Contador, che fai? Albertino, il pistolero, non ce lo metti. Battaglino, ovviamente, ci ho corso insieme. È arrivato anche il bischero di Luca. A letto. In un fermo immagine che dice molto. Che dice molto. Sei già bloccato lì con quel cuscino dietro. Si sta scaccolando a due litri. Si stava per. Aspetta, aspetta. Però, io ti posso fare un piccolo elenco. Siccome c'è un indice dei nomi, mi ascoltate, mi vedete. Vai, vai, vai. Nell'indice dei nomi, in questo libro, ti faccio un piccolo... Mi fermo alla A, va bene? Acqua e Sapone, Adorni, Vittorio, Agostinio, Alla Philippe, Androni di Qui Giovanni, Anketil, Armstrong, Aru, Asgren, La Stana, che è scritta in diverse pagine, perché ovviamente parlando di Scarponi e di Nibali, per forza ci stai dentro. Ci sono... Bahamontes c'è, per dire, no? Franco Ballerini c'è, Bardet c'è. Quindi non è... Insomma, ragazzi, andate nelle librerie, compratele e leggetelo, perché ne vale la pena. No, a parte le battute sull'Andra... Si può non comprare. No, ma a parte le battute sull'Andra, è comunque sempre bello quando c'è un libro di ciclismo, eh? Perché a me piace leggere il libro di ciclismo per gli aneddoti, più che per quello ha vinto quello, quello ha vinto quell'altra corsa. Tanto, cioè, appunto, come ha detto il mago, prima ci sono le statistiche, cioè ProCyclistats, se uno vuole sapere cosa ha vinto Tizio e Caio, va su un sito, no? Mentre gli aneddoti, magari, se le trovi in un libro, non le trovi in altre parti. È quello il discorso. Quindi... Gli aneddoti, le storie, ci sono state per fare questo libro? È uscito due giorni fa. Sai qual è la cosa brutta dei libri di ciclismo, no? Cioè, in generale, no? A volte cercavo un po' sui libri, no? Ci sono tantissimi libri, tanti, tanti corridori che hanno fatto autobiografia o biografia, tutti i corridori che hanno avuto problemi di doping o roba del genere. Invece ci vorrebbero meno di questi, di queste autobiografie e più biografie dei campioni oppure dei personaggi. Cioè, non ho capito perché c'è sempre se ti cerchi libri autobiografie, biografie di ciclismo, trovi tutta quella gente lì. Cioè, ma io invece voglio leggere della gente che... insomma, che ha avvito, che pur ha perso anche. In questo libro, in questo libro, vi spiego come è nato, poi, cioè, come è voluto, è stato scritto, chiaramente ha scritto Luca, io non ho scritto niente perché non so, fa un occo o bicchiere, però ho partecipato dettando e imbastendo un po' anche le nostre, con le mie conoscenze del ciclismo. Ormai sono 50 anni che sono dentro, quindi... però è bello perché ci sono anche delle... è stato fatto anche con delle interviste, per esempio Conti è stato uno di quelli che è stato accanto a Pantani per tanto tempo e ha raccontato anche delle cose belle, no? Quindi, ora, inutile che ve le dica se no non lo comprate, no? Però ci sono delle... delle esternazioni anche di Chiappa, ci sono delle testimonianze per esempio di Riccomi su Vanip, mi sono frizzato. No, noi ti vediamo bene, sempre, sì. Quindi, insomma, non è un libro scritto anche soltanto da noi, noi abbiamo anche raccolto, quindi... no, basta, non parliamo più del libro, parliamo di... Eccolo qua. ...di quello che è successo in questi giorni, perché, insomma, di Carnarfo ce n'è stata, eh. Da Tirrino sei riuscito a vedere qualcosa, Magro? Che commentavi in La Nizza? Sì, sì. Sì, sì. Beh, vabbè, ti posso raccontare che un giorno la tappa che ha vinto Roglic, il giorno... dunque, la prima che ha fatto, ci siamo... ci siamo... se qualcuno sentiva la nostra telecronaca, per quattro minuti ci siamo chetati l'ultimo chilometro e l'abbiamo visto lì, cioè, senza parlare, perché... altre cose a Luca ho detto, vada, vince Roglic. Magro, facciamo così, dai, visto che l'abbiamo già calcolata nell'app, no? Perché c'è stato appunto, siamo andati lunghi, perché questi top flop che poi dopo faremo vedere siamo andati parecchio lunghi. Allora, partiamo subito dalla Tirena Trias, ci leviamo subito il sasso grosso. Allora, sono più i meriti di un Roglic che oggettivamente, obiettivamente non era un Roglic al 100%, perché non ha mai staccato nessuno, si è solo limitato a stare con i migliori e a batterli allo sprint per tre volte, e è stato regolarista. E l'unica tappa in cui è sembrato in difficoltà la tappa con la rivol salita, purtroppo c'erano dei fattori esterni, ovvero il forte vento, la tappa di tre chilometri accorciata alla salita e Roglic è rientrato grazie a ruolo di Kelderman e ha vinto lo sprint di 20 corridori sulla rivol salita, che oggettivamente una rivol salita del genere con 20 corridori purtroppo non si può vedere, però il vento ha giocato la sua e detto questo, e le gambe penso, perché non ho visto gente con grandi gambe. È più merito di Roglic o il, poi si va anche su Formolo che tira per la giumbo alla tappa dei muri, quello poi ci si arriva, o demerito che gli avversari trattati che sbagliate, poche gambe e poca lucidità nel leggere anche tratti della corsa hanno floppato. Qual è la verità della Tirena Adriatico? La verità è una sola che ha vinto Roglic vincendo tre tappe non ha dominato ma c'era molto, a me è sembrato che fosse una corsa molto bloccata, molto controllata. La tappa di Sassotetto purtroppo è stata tragicamente ridotta e il pezzo più duro l'hanno tolto e poi contro vento ragazzi fai la differenza male, cioè non era facile. Certo. i corridori sono stati costretti a limitarsi anche perché col vento contro già in salita e il vento contro ti spinge indietro e vai in bicicletta quindi lo sai. Certo. Se vai a Quarzerra se vai a Quarzerra Caruso è l'unico che ha avuto le palle di fare un attacco degno e per poco se partiva 500 metri dopo vinceva Caruso è l'unico che ha avuto le palle di provarci e se qualcuno gli andava dietro diventava interessante e purtroppo c'è stato. Il problema è sempre la Movistar ragazzi forse non l'avete capito quel giorno lì la Movistar ha tirato tutto il giorno e è chiaro che aveva in testa la vittoria cioè o perlomeno di cercare la vittoria per Mass a quel punto lì quando una squadra tira tutto il giorno come hanno fatto loro Mass doveva dare una prova anche ai suoi compagni di squadra e se un c'era Mass non l'ha visto ha fatto uno scatto di due metri ha fatto uno scatto di due secondi e mezzo mi sembra il record ti credo no però è stato determinante nel lanciare poi gli altri capito ha acceso la miccia e chiaramente poi dopo hanno preso Caruso se no vinceva Caruso per conto mio però siccome siamo sempre nel se e ma il se e ma sta in bocca agli imbecilli è andata così per me la tirana triatico mi è sembrata una una corsa imbottita di grandi campioni che qualcuno si è anche nascosto perché mi dirai mia che Van Der Poel ha fatto la orsa non ha fatto niente Van Der Poel ha fatto la orsa per la Sanremo Van Arte vabbè è cascato l'unica ossa mi dispiace Pitco che l'avevo nel fanta si è ritirato e non so si è ritirato non si è fatto niente speriamo speriamo però insomma io per esempio per me la Sanremo è uno dei favoriti comunque non voglio andare oltre la tirana triatico mi è sembrata una corsa molto bloccata a dire che sono andati piano non puoi dirlo perché sono andati sempre forti perché l'agonismo c'è sempre stato fatti contingenti un po' di situazioni un po' strane in corsa come succedono spesso ci sono stati però Roglic quando uno vince non puoi dire che ha vinto per demerito degli avversari ha vinto perché se l'è meritata lui poi come abbia vinto come abbia vinto è un altro discorso però io non mi ricordo se l'avevo detto a Mullà se l'avevo detto qui in chiave giro d'Italia siccome non ci basta sta qui bassi c'è da fare tutto il badge però in chiave giro d'Italia io ho sempre detto che e Venepul si può essere considerato uno dei favoriti ma non gli basta perché la cronometro non gli basterà e per me il giro d'Italia lo vincerà Roglic questo l'ho detto in tempi non sospetti io ce l'ho nel fantasy quindi Magro però ti faccio una domanda allora puoi magari prima posso salutare il Magro visto che non lo vedo dalla vita saluta Marcello ma voi mi vedete mi vedete bene Bertha sì 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 vediamo benissimo benissimo perché io qui mi traballa tutto non lo so no no sfocato e anche giallognolo ma stai bene l'importante è sentirsi no è perché perché ma perché devi intervenire per vedere discherate cioè è giallognolo perché c'ho la luce non mi vedi che sono dimagrito scusa se non lo vedi cioè non lo so prima di parlare posso fare una proposta sabato andiamo a sciare quando? sabato sarà un po' difficile lo sarremo e lui andiamo andiamo a sciare sì perché nevica tutto prima domani nevica ma no dai è arrivata la primavera dai è arrivata c'era 40 gradi oggi ci sono 4 gradi a Mestre la primavera figa la primavera devi venire in Toscana devi venire la primaverina in Toscana la primaverina ma perché a Mestre ora si a Mestre ho detto a Mestre ho detto a Mestre sono a Mestre adesso sì comunque allora tornando sul tema tirano adriatico ti volevo fare una domanda allora a me Roglic non è piaciuto fino alla tappa dei muri poi alla tappa dei muri mi è piaciuta a te non ti piace mai a prescindere però vabbè non è un corrido di tirano particolarmente però non si è capito si è capito però nella tappa dei muri mi è piaciuto mi è piaciuto e poi però devo sollevare una polemica grossissima allora a me fanno incazzare Magro le squadre che e questa è colpa della classifica UCI probabilmente che sono lì a tirare a contare la quarta la quinta la sesta posizione ma porca puttana ma cioè io se fossi un direttore che classifica UCI ma come dare la colpa per corsi non hai capito se c'hai qui corridori buoni lì vedi delle corse dove ti diverti ormai sono abituati troppo bene perché negli ultimi anni si è visto Van Der Poel anche Van Arti tante volte Pogaciar che ci hanno fatto divertire tutti i giorni capito e ora ogni volta quando o non sono in forma questi due V oppure non c'è Pogaciar purtroppo ti trovi i corridori normali e ti annoi questo è quanto no però fammi una domanda perché Almeida non è Almeida perché Almeida a te ti farà fare punti ma Almeida è un corridore noioso perché te sei abituato a Pogaciar negli ultimi anni come fai a guardare Almeida capito quando guardi Pogaciar da una parte cambi canale vedi Almeida spingi spingi è quello il punto lasciando perdere lasciando perdere Almeida a un certo punto sulla tappa dei muri Van Aert fa una sparata a un giro dalla fine fa una sparata fenomenale riduce il gruppetto davanti a 7-8 unità poi rientrano altri corridori e si iniziano tutti a cagare nelle mutande perché dicono se Van Aert rifa una sparata al prossimo giro ci saluta tutti invece Van Aert probabilmente o si è nascosto o non ne aveva più Van Aert non si è più visto ma più visto mai è andato più davanti al gruppo mai rientra Ben Aert la Jumbo fa una cazzata clamorosa casca Kelderman e ferma Attila Walter dal gruppo davanti cazzata clamorosa perché devi gestire comunque la corsa rimane solo Van Aert che non tirerà più un metro e Ben Aert insieme a Roglic partano Vlasov settimo in classifica quinto non mi ricordo com'era comunque lì ha una ventina di secondi da Roglic due della Movistar e Guiliane Martin prendono 25 secondi Ben Aert morto non ce la fa più arriva Formolo che tira ma non io ce l'ho con Formolo ce l'ho con chi ha detto con il suono del Poi hanno fatto bene perché Almeida comunque era in forza aspetta aspetta a posteriori aspetta aspetta parte Formolo e si mette a tirare per 10 km a tutta a tutta e le tiene lì a 25 secondi 30 19 25 poi parte la Ineos a caso anche lì parte sfocata la Ineos riprendono non a caso sempre lo stesso è arrivata terza con Gaghanardi perché dici a caso aspetta perché allora il discorso è che se nessuno tirava dal mio punto di vista Roglic doveva mettere Van Aert davanti che probabilmente non ne aveva e lui stesso a tirare perché se no a tirare non la perdeva e la vinceva Vlasov allora io dico una cosa siccome tanto Roglic come si è visto se non lo batti perché ha vinto la terza taffa lascia fare Almeida se è ondo più che una terza Roglic ha rivinto la terza tappa rivinto quindi l'avete portato in carrozza ma perché le squadre non accettano il fatto di dire oh io l'avete allenato non me ne frega niente oh ho la giumbo tiro se no per me la vince Vlasov a quel punto lì Roglic deve tirare per forza se vuol vincere non tira la vince Vlasov e Roglic ha perso cosa gli cambia Almeida arrivare secondo dietro Roglic o terzo dietro Vlasov per Roglic e vince Vlasov cosa gli ne frega lui ho capito ma la squadra più forte o nel corridore più forte se te non lo esponi mai a dove tira fuori il sangue per cercare di vince e lo porti sempre in carrozza lì e questo vince sempre sempre infatti ha vinto Roglic anche lì e quindi per me è un errore colossale è un errore colossale non lo so Mario ti come la vedi io ho la mia opinione poi sono polemico ma non ce l'ho con formula ce l'ho con chi gli ha detto di tirare è la tua opinione certamente le squadre vogliono vincere e vogliono fare il miglior risultato e il discorso dei punteggi ti faccio ti ricordo quello che è successo alla strada bianca a un certo punto Luca mi dice ma secondo te Beno e Atti Laval te le stanno correndo bene per loro fare un terzo e quinto fai il conto di quanto gli viene hanno preso più di Pitcock che ha vinto questo problema dei punti purtroppo è un problema grosso anche nella nello svolgimento della corsa però in quel caso lì 26 secondi quando sono arrivati a avere 30 secondi di vantaggio massimo per quelli dove volevi che andassero con un finale come c'era anche se non tirava formolo o se non tirava la Ineos qualcuno tirava perché di sicuro la gente vuole andare alle corse per vincere Gürgenhardt pensava di vincere Almeida pensava di vincere perché se no allora si sta tutti a casa si fanno fare le corse solo a Pogaccia e a Roglic o quelli che vincano stravincono o a Pitco non è un ragionamento quello lì quello che hai fatto te Roglic allora l'errore la Jumbo ricordati sempre che sono sempre quelli sulla macchina sono sempre quelli che si sono fermati a pisciare prima a Giro d'Italia quella volta là che poi Roglic rimase a piedi con la bicicletta e sono sempre quelli che hanno fatto fermare Dumoulin per aspettare Reichenbach quando Frommer era andato via cioè c'è anche questo da dire poi vincono perché hanno uno squadrone e le squadre sono quelle lì c'è la Jumbo c'è la UAE che c'ha quante ne ha vinte 19 mi sembra ora non mi ricordo quante ne ha vinte le ha vinte quasi tutte Pogaccia no quindi i Neos è comunque sempre una squadrona perché spendono anche tanti soldi e poi la terza qual è di squadre 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 cioè se vai a guardare si è ritagliato un po' di gloria anche l'Inter Marche ma le corse la gente non è che ci va per arrivare c'è il pareggio nel ciclismo o vinci o perdi e perdere se ti rimedi anche il piazzamento il podio è un buon risultato che poi Blasov si è praticamente piantato sul muro finale quindi non so Blasov non si è piantato perché è arrivato davanti a Indley era partito ha fatto la funga di Puglielo per dire no Blasov non è andato malissimo anche se poi è stato ripreso eh in realtà Blasov ha provato Blasov Flasov Sivakov cioè ci sono 7-8 corridori che sono superiori a quegli altri per specialità sulle corse a tappe ce ne sono due che sono superiori nettamente e sono gli sloveni ragazzi non è che c'è da fare tanti discorsi ma alla grande sono superiori alla grande ma sono superiori ma no da oggi sono superiori dall'anno scorso da due anni fa da tre anni fa Roglic è una vita che va forte Roglic è vero non era forse nel top della condizione ma non ha fatto niente di sbagliato è andato là è sempre stato nascosto e poi e poi ha vinto ha vinto in volata perché c'ha quelle sparate sono su arrivi quelli lì si è visto mille volte come sono gli arrivi anche di Pogaccia sarebbe stato bello se c'era Pogaccia però sicuramente lui avrebbe fatto diversamente quello infatti se te sbagli perché lui se la prende tipo come di la mette sul fatto che il Roglic non ha meritato di vinci non è quello è che magari guardando la corsa non ha meritato di vincere però magari vedi non ha fatto nulla lui ha fatto il suo ragazzi non ci doveva nemmeno essere non ci doveva nemmeno essere arriva e vince Agile arriva e vince Agile tre tappi no ma il discorso è quello che magari certi corridori senza far nomi li vedi e li vedi un po' rassegnati già in partenza c'è gente che non è che secondo me tanti non provano neanche a vincere magari va bene ma perché non ce l'hanno e non hanno quelle caratteristiche non hanno le gambe dici te Caruso ha avuto le palle perché aveva le gambe buone ha provato ma gli altri se avessero le gambe buone come ce l'aveva Caruso in quell'occasione lì di Sassotetto e avrebbero provato il problema è che erano troppi anche lì c'è anche c'è anche quello da dire ragazzi ma il parterre che c'era gli iscritti che erano alla tirana degli altri quest'anno il giugno d'Italia non ce l'ha non ce l'avrà quello sicuramente non c'è ma se c'è Venepul oddio poi Almeida c'è Adam Yates non si sa cosa farà sì vabbè ma te c'è anche Van Aert Van Der Poel no no vabbè ma per la Gisip la castiglia generale oppure velocisti Philips e Jacobson no l'agroentendia il partello globale sì ha ragione no è certo il partello globale il partello globale sì 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 cioè il tour il tour velocisti non rivedremo mai al giro eh ragazzi come anche velocisti io io Philipsen Jacobsen Gronewegen oggi per esempio ho fatto un volatone il nostro insomma Dainese 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 che sembrava finito nelle gerarchie dietro però però il problema è sempre quello c'è sempre la scuola è partito troppo da lontano era in decima posizione come mai quelli lì che vincano sono sempre perfetti Philipsen aveva Van Der Poel ragazzi gli ha fatto due tirate di volate Van Der Poel a Philipsen se le sognano e l'altro cioè ma Van Der Poel io devo dire che la vedo sotto un altro punto di vista Federico non è che per carità te la vedi anche dal tifoso non è giusto che sia il tifoso a me mi accusano che sono cioè aspetta no prima mi accusavano sacancentrico ragazzi ragazzi io faccio le telecronache e mi devo mi entusiasmo perché c'ho passione se vedo uno che va forte mi appassiona cioè cosa vuoi dire uno ho letto stasera perché poi non lo guardo meno male che non ci guardo più perché se no mi incazzo ma ma scritto e se hai capito fenomeno 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 e venti minuti e dite che è un fenomeno e cosa vuoi dire di uno così io ho 50 anni che sono nel ciclo no di più perché ho cominciato a frequentare quest'ambiente nel 1970 quanti ne hai passati eh 53 53 sono 53 anni che sono dietro le corse e di corridori ne ho visti tanti io uno così lo dicevo anche di Evenepul ma lo mantengo è anche Evenepul un altro di quelli che io non avevo mai visto fare quelle cose che fa lui che ha fatto lui Pugascia ragazzi è uno che l'ho detto anche in diretta oggi ho detto ora qualcuno proverà no per avere le palle come dicevi te Federico qualcuno ha provato sì ha provato Yates poi l'hanno fatto un cazzare e hanno dato via e rivederci ma l'ho detto in anticipo ho detto vedrai che succederà così qualcuno adattaccherà e lui partire e andrà a vincere da solo e di fatti così è perché perché la squadra l'aveva finita Groschakner che ieri ha preso 27 minuti oggi ha fatto un lavorone perché oggi le squadre lavorano anche così fermo Federico oggi stai buono si fa lavorare a nulla non ti preoccupare te riposati però domani ci devi essere no vabbè ma faccio no spiazzare però vedi Magro la differenza la differenza tra la Tirreno e la Nizza è che abbiamo visto alla Nizza secondo me pur che Pogacar è secondo me due gradini sopra Robic quindi altra roba c'era alla Nizza Vingegaard anche se non è al 100% è al di sopra di il mass qualunque si oddio i primi tre i primi tre i quattro e quattro perché poi il resto dietro c'era cioè nel senso non è che c'erano i primi quattro della Nizza si ho capito ma però nel senso la Regna di Canove non faceva parte del gioco i nomi erano quelli lì tre o quattro va bene però va bene però i primi quattro della Nizza sono ad oggi di un'altra categoria rispetto ai quattro escludiamo Robic però gli altri veramente aspetta va bene a prescindere poca c'era i Vingega sono superiori e fuduti in questa settimana della Tirreno Adriatico primi tre dai quelli lì li abbiamo visti in tappe forse più difficili rispetto a quelle della Tirreno la Limonsalita e anche la tappa di oggi provarci almeno cioè Godù gli ha scattato un faccio a Pogaccio all'altro giorno Vingegaard uguale ha fatto il fuoriciri va bene il giorno dopo gli rientrava sotto e allora il giorno dopo attaccava Godù cioè abbiamo visto robe che di là forse probabilmente questo è il carisma dei corridori che ci sono corridori di un certo livello e corridori di un altro livello Almeida ha fatto due scatti suguri sì ma perché il Roglic non era sì allora il livello alla Tirreno erano tutti più o meno sullo stesso livello alto secondo me sì sì cioè livello molto alto e quindi era difficile fare la differenza di là era a livello alto ma ce n'era uno che era più alto di tutti quegli altri e quindi hanno provato e ci sono rimbalzati nonostante questo anche oggi hanno provato e poi dopo lui arrivederci grazie cioè Vingegaard ha attaccato per primo lui quando ha perso da Pogaccio la prima che ha fatto perché ha attaccato lui poi dopo c'è stato Godù che ha approfittato di questo di questo dualismo se ne era andato Godù per esempio è uno che ha fatto molto di più rispetto a quello che aveva fatto negli anni precedenti questo è un ragazzo però sempre giovane 27 anni nel momento pieno della sua maturità è sempre stato nella sua questa squadra nella gruppa ma ma Dio ci ha sempre creduto l'anno scorso ha fatto quarto al tour quindi Godù sembra che abbia una consapevolezza diversa quest'anno perché uno che comunque scatta in faccia a Pogaccio gli sta dietro sulla rimonsalita che è stato battuto di due secondi cioè vuol dire che sei di un altro livello quest'anno quando si è provato a fare lo scatto quell'altro gliel'ha raddoppiato mi parla di due secondi cioè se voleva lo staccava anche prima Pogaccio non l'ha voluto non l'ha voluto staccare ma Pogaccio l'anno scorso ve lo ricordate quando veniva criticato perché faceva sempre le volate e tutti hanno saltato per aria quando ha preso la miciola sul Granon ma lì ha sbagliato ha sbagliato lui perché è voluto andare dietro a Roglic in tutte le maniere perché era il sloveno erano due cinquante rotti in classifica generale che cazzo te ne frega di andare dietro a Roglic stai attento a Fingek se non piglia la miciola quel giorno lì e voglio vedere come va a finire il Tour de France l'anno scorso e comunque è arrivato secondo con tutte le critiche perché c'è la gente che ha coraggio anche di criticare Pogaccio ragazzi ma che cazzo vuoi criticare Pogaccio allora l'ho detto abbiamo fatto un giochino l'altro giorno ci siamo messi a confrontare i due abbiamo messo chi va più forte in salita Vingek è più forte di Pogaccio sulla salita secca sulla salita pura però le corse non sono fatte solo di salite ci sono le volate ci sono gli abboni ci sono i traguardi volanti che danno l'abboni a me è piaciuto per esempio alla pariginizza il 6 il 6 4 2 ha dato un pochino più di succo gli abboni è vero che già il primo giorno era là a fare la volata e ha fatto la volata è arrivato terzo da mar voglio dire erano salita gli abboni erano messi in maniera da poter creare anche un po' di spettacolo la pariginizza noi l'abbiamo commentata l'abbiamo fatto anche questo passo e lo svizzero dice al tour dell'anno scorso era giusto criticare Pogaccia per la gestione del tour secondo me cioè le varie volatine gli scattini che faceva sì ma è questo l'ha fatto anche qui l'ha fatto anche la pariginizza critichiamo ma non rischia di arrivare spompato o non finito finito come un calzino ragazzi questo è un fenomeno ha fatto 52 corse l'anno scorso ma cioè ha fatto 13 corse quest'anno va bene 13 14 non mi ricordo quante 13 giornate di corsa ha vinto 7 7 volte 7 volte più 2 9 perché 2 giri a tappe 2 si è presentato quest'anno l'anno scorso aveva vinto Lombardia aveva fatto secondo all'Emilia aveva vinto 3 valli 3 valli all'Emilia ha vinto Mass si voi continuate con questo Mass Mass è andato forte Mass sta andando forte ragazzi ragazzi ci chiudono la diretta perché Pogacera e Mass entro 10 insieme in 10 secondi chiudono la diretta perché è una cosa illegale non si può dire ma che c'entra Mass però ti pongo una domanda tecnica ok allora l'anno scorso a prescindere da Roglic non Roglic ha sbagliato Fogaccia abbiamo visto che uno Vingegaard che è forte se focalizza un obiettivo e ci arriva al 100% della condizione e gli va più o meno tutto bene anche nella tappa del pavè quando Vanarte lo aiuta per rientrare Fogaccia diventa battibile la domanda è diventa battibile perché Vingegaard è stato superlativo o anche perché Fogaccia come quest'anno come è partito quest'anno anche l'anno scorso lui va sempre a tutta però andando sempre a tutta probabilmente non arrivi mai all'obiettivo clou che sappiamo tutti qual è purtroppo il tour de france che sembra conti solo quello però magari può essere che arrivi lì e non sei al 100% ma mantieni tutto l'anno a condizione super però se trovi quello che lì è al 100% allora rischi di perdere può essere così? sei serio? no sono serio sì perché l'anno scorso è successo questo ma ha preso una giornata di mi fa urla due l'Urdo Takam c'è la getta ma Otakam ragazzi ma ve lo ricordate che ha fatto Vanarte ragazzi se no mi fate incazzare anche voi poi c'era preso una giornata di crisi di fame per essere andato a prendere nella trappola e cascato in una trappola dove c'era una squadra che era superiore nettamente ha stravolto tutti i i sistemi lunari ma no scusami su l'Urdo Takam perché ha detto Vanarte su l'Urdo Takam comunque poca ce l'era in scia a Vingegaard e a Vanarte perché ha detto Vanarte poca ce l'era dietro l'hanno l'hanno finito cioè ma ragazzi ma quando l'avete vista voi negli anni passati attaccare la maglia la maglia gialla loro andavano in fuga con Vingegaard in maglia gialla cioè ti rendi conto o no cioè l'anno scorso quella squadra lì era superiore nettamente Vingegaard in salita andava più forte e gli hanno fatto baciare Chiavaccio in una giornata di crisi è arrivato secondo poca ce l'anno scorso oh non è arrivato finito morto fuori da ogni cioè non è affatto come Mas o Ares ti dico all'RR dice che è quello che dicevo io anche lo scorso anno dopo la Tirreno si diceva lo stesso di Pogaccio poi abbiamo visto tutti come è andato ora valutiamo la forma senale di Pogaccio da marzo e poi vedremo a luglio ora è un messaggio un po' provocatorio no nel senso la mia domanda era molto tecnica ho detto non è che uno mantenendo una condizione sempre al top no non mi parla di picchi Federico non mi parla di picchi di forma perché io non ci credo una sega a quella roba quindi io sono te la pensi come ti pare te fai preparatore fai il ciclamatore pensala come i preparatori i picchi di forma per me il fuoriclasse conta la forma fisica è un'altra roba i picchi si possono fare in un'altra maniera si programma tutta la stagione come cazzo ti pare però non mi parlate di picchi di forma perché io se no mi incazzo perché allora Merz che c'aveva picchi di forma quanti 300 giorni l'anno c'aveva Merz io non l'ho visto core ma io l'ho visto cazzo cioè Merz vinceva partivano a febbraio cioè Merz ha vinto scusami ha vinto la Sanremo a marzo poi ha vinto il Fiandre a aprile poi ha vinto vado vado oltre ha vinto il Giro d'Italia a maggio poi ha vinto a giugno il Giro di Svizzera poi ha vinto a luglio il Tour de France e poi a settembre c'era il campionato anzi a fine agosto c'era il campionato del mondo vinceva anche quello poi arrivava a Lombardia e vinceva anche quello di che cazzo si parla ragazzi mi fate incazzare porca me Pogaccia è come Merz e questa l'ho detta boh basta non è che è solo Merz cioè voglio dire ora lascia stare diversamente abbiamo superato i suoi cento spettatori anche uno come il Roglic no anche uno come il Roglic che ha tenuto i capi però uno come il Roglic anche lui è uno che va sempre forte cioè le cose che fai io l'ho sempre visto che vinci o vincevo arrivava a secondo terzo era sempre in qualsiasi corso si presentasse ha sempre fatto bene non c'era non c'è differenza capito poi magari ha avuto magari anche lui delle giornatacce come la cronometro del tour che poi è l'unica cosa che gli manca alla fine è quella lì è arrivato quinto è arrivato quinto quel giorno lì non è che è arrivato sì no nel senso è chiaro sì infatti però magari lui è uno che magari di solito arriva al primo o secondo non una cronometro però una giornata sì però poi per il resto anche lui cioè ragazzi è venuto nella Tirrano ora vabbè che magari aveva bleffato un po' perché magari ha detto vengo senza persone aveva piedi lunghi lui è venuto si è presentato da Sanremo con piedi lunghi e quegli altri l'hanno detto dove cazzo va questo video l'hanno sottovalutato capito questo è questo è ma secondo me davvero un piccolo di forma di piazzano è quando rifai il letto questa lì è gente che c'ha un motore chiaramente clamoroso ma c'ha anche la mentalità comunque viene e comunque va sempre forti dai c'è questo discorso eh no sto preparando un'altra cosa qui vengono e vengono questo punto allora io io sul picchi di forma io vado contro corrente perché oggi chi conta sono i preparatori atletici i nutrizionisti i manager perché pagano e i procuratori queste sono le figure i direttori sportivi contano fino a un certo punto perché i direttori sportivi contano con le radioline occhio che c'è una spartitraffica c'è la curva a destra e vedi queste accelerazioni micidiali del gruppo tutti insieme perché tutti dicono la stessa cosa il percorso è quello lì fanno le riunioni sul pullman e fanno vedere i punti critici eh della corsa quando una volta i corridori avevano un libro che si chiamava Garibaldi e si guardavano un po' come erano il percorso io non è per dire io io ho vinto al Tour de France perché sul Garibaldi avevo visto che c'era una curva a 400 metri a Rumaiolo e avevo detto questa qui è una tappa sto bene provo a anticipare la curva se arrivo con quella curva a un 50 metri di vantaggio 30 metri di vantaggio la porta a casa e l'ho portata a casa non è che era stato un caso non è un caso quella vittoria lì tanto per per darmi un po' di incenza anche a me però il problema è il picco di forma sì esiste il picco di forma ci sono due picchi di forma durante l'annata questo l'anno scorso ha fatto 52 corse è sempre stato cioè dal UAE che ha vinto quello che è bello di questo ragazzo è che lui è andato alla Paris inizia per vincerlo lui è andato alla Paris inizia ha detto io non rischio neanche cioè l'ho vinto l'anno scorso quest'anno è in una situazione di calentare peccato per noi è quello peccato per noi perché è peccato però ha fatto questo però te la rigiro la domanda Magro allora te la rigiro ti faccio questa domanda all'incontrario vabbè poi c'è un fenomeno tutto l'anno Wingergarde invece torna al mio ragionamento che lui va forte solo quando prende un obiettivo si allena per quello e ci arriva in condizione ora sicuramente come l'anno scorso alla Tirreno non è il Wingergarde di tutte le franze si vede che non ha il cambio di ritmo che ha difficoltà a stare dietro all'accelerazione non solo di Pogaccio ma anche di Godù quindi non è Wingergarde dell'anno scorso ancora quindi Wingergarde dal top è l'unico forse che può stare dietro Pogaccio o se la gioca alla sua prima corsa che si è presentata ha vinto tre tappe di rimando e gli ha risposto a distanza a Pogaccio allora non aveva la condizione sì ma allora non aveva sì ho capito ma allora non aveva la condizione per vincere no l'ha vinte contro eh ho capito ma l'ha vinte contro Guerreiro se c'era Godù magari qui è arrivato terzo in classifica generale cioè ragazzi voi avete una concezione di condizione perché alla Tirena Triatica l'anno scorso come arrivò secondo eppure uno vide mai Pogaccio sul Carpegna però poi a Ture è un altro Wingergarde giusto sì e siamo d'accordo e si vedrà a luglio come ha detto sì sì no era così ma allora non è che di questo tempo mi passi a essere un minimo sotto la condizione ideale che ma perché volete andare a guardare il pelo nell'uovo porca di quella troia ha vinto la parigi inizia l'ha stradominata vincendo vincendo oggi no no calma 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 dico Winger cosa vincendo cioè Wingergarde se sta un pelo più basso della forma ideale magari alla alla Gran Camino vince ma contro Pogaccio non vince anzi ma è così infatti è probabilmente è dimostrato ecco è quello che dico io però 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 mi devi ti faccio una posso fare una domanda io vai ma vai anche due a voi che ve ne intendete perché voi ve ne intendete tanto ma perché Wingergarde la prima tappa che ha vinto Pogaccio era l'annizza attaccato vai ti rispondo allora questa è una guerra come si diceva con Visco è una guerra psicologica lui sicuramente lui è arrivato sicuramente pensava di essere in buona condizione ma pensava di non essere al top lo sa che non è al top a marzo e attacca attacca sì vabbè lui secondo me su picchi ci va al tour de France però a parte tutto ci ha provato e perché se per caso staccava Pogaccio la stagione li cambiava radicalmente dal punto di vista proprio psicologico non ci ha riuscito ha fatto un fuorigiri clamoroso per rientrargli sotto perché ha fatto due scatti il primo l'ha fatto Vingard Pogaccio è rientrato e sorrideva la telecamera contro scatto poi contro scatto dopo quanto? 200 metri e non l'ha più ripreso però Vingard in quel frangetteria ha dato l'anima per cercare di rientrare e poi ciao è arrivato quinto dietro Bachelen a 43 secondi il giorno dopo ha capito che il cambio di passo non ce l'ha è andato su trick e track è arrivato con loro al traguardo oggi l'ha ripresa secca ci ha provato se gli andava bene e svoltava non gli è andata bene e li siamo punte da capo come la Tirena Adriatico dell'anno scorso ma te pensi che Pogaccio abbia cioè le sudditanze le sudditanze psicologiche di questi qui c'è Pogaccio di piscia di piscia ma di piscia a capo forse non hai capito Pogaccio di piscia in capo poi gli può trovare anche una giornata di crisi l'ha avuta al tour cioè ci può stare se non provi ce la fai mai non sai mai ma questo è un marziano lo volete mettere non c'ha neanche io lo guardavo oggi non ha neanche la gamba sfibrata no non c'ha è vero quello ti ho sentito mentre l'ha detto io lo so è vero è vero non ha la gamba tirata tipo alla Filippo che ha la gamba tirata è vero è un bimbo ti dici la guerra psicologica non c'è tra due perché ridi perché vuoi far cazzare non è guerra psicologica prenotto per due domande intanto ne approfitto no l'ultima poi non è guerra psicologica e ci può stare va bene però l'anno scorso l'anno in cui l'hanno folgato ti interrompo solo ti interrompo soltanto te l'ha detto Visco te l'ha detto Visco no che è una guerra psicologica lo penso anch'io sì e allora andate dallo psicologo tutte e due se è una guerra psicologica però l'anno scorso l'hanno fregato dal punto di vista di testa perché se lui si fermava a ragionare non seguiva Roglic magari avevamo visto un'altra tappa sul granone quindi lì hanno cercato dal punto di vista allora se Roglic era belga a lui lui lo mandava via forse un apito se Roglic era belga ma belga non era è sloveno come lui e ci si è camponito ci sta è come quelli c'è fatto caso che quando è partito Godù e l'ha andato l'ha andato a rincorrere Bardet e poi un altro un miliardo chi sempre francese shampoo sen una roba del genere perché è sempre stato così se va via un italiano porca di quella troia c'è un italiano e lo va a rinconti come mai questa è una questione da sviluppare ok è bello perché siamo partiti a marzo c'è da arrivare a luglio di via a luglio infatti la gente ma io non ho capito a me invece mi dà noia di luglio ma a me che me ne frega di luglio ma se Pogaccio arriva a luglio e ha già vinto una sanremo un giro delle piandre a giù di franzi e per me io se fossi in lui c'era dei pantaloncini morti ma però prende il sole capito non è quello il problema questo è vero a luglio sembra che quelle stucciate fino al giro di franzi un contenente è solo tutti si preparano per il giro di franzi ma alla fine ma chi se ne frega il giro di franzi c'è la sanremo il fiandre c'è tante cose la Liege allora questo può vincere la sanremo può vincere il fiandre diggielo che ne venga venga vai se te tante volte non succederà mai però se arriva a vincere la sanremo e se vince la sanremo il fiandre Artur ci può andare a fare una vacanza quello do ragionare nulla perché secondo me infatti come ho detto prima il tour è troppo enfatizzato è troppo c'è altro del calendario questo do ragionare Moulin 100% bravo Moulin la penso anche io così ma senti c'è da qui a luglio bisogna sentire Riccardo del Turco a luglio Riccardo del Turco quello che cantava luglio col bene che ti voglio da 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 ho due domande per il magro una riguarda Pogacare la sanremo non ti picchi però no no assolutamente che cosa come lo vedi lui per la sanremo che è una cosa molto molto particolare con tantissimi corridori che possono fare bene la seconda domanda tornando a terreno come leggi il quinto posto di Ciccone parto da Ciccone Ciccone mi è piaciuto tanto quest'anno è cambiato ha avuto sfortuna nella tappa di Sassotetto perché è stato battuto da Roglic per un pelo e poteva vincere e se avesse vinto ma tu mi fai incazzare Federico è inutile che tu mi dica che tu dica chi c'hai di ora faccio un cazzo no ma diciamo ma guarda a me non è quello il punto non me ne frega niente non è quello di Pogacare sembra che ci sia solo il Tour de France sembra che ci sia il Tour de France nel mezzo e poi tutto il resto gli gira intorno il Tour de France è una cosa importante come ce ne sono tante altre solo questo comunque per rispondere a Lorenzo allora Ciccone a me è piaciuto tantissimo già quest'anno che la la sagra degli errori lì ci sono stati la sagra degli errori perché alla Valenziana cioè non ho visto i tutti i dolori cioè roba da gatti fratici tirati con la Oda proprio cioè proprio una roba fuori del normale perché cioè Ciccone doveva stare a ruota in quel gruppettino perché era battuto da tre minimo Bahrain che tira con Bilbao davanti che poteva vincere la tappa no a parte che Bilbao Bilbao il picco di forma non ce l'ha te lo dico è sempre lì però concordo concordo a me è Magarbato concordo Bilbao sì a me è Magarbato perché Zucchetto è un bicicletta però è regolare lui lo stimo come corrido però non sono tifosi ha vinto ha vinto ha vinto praticamente una bellissima tappa davanti a Landa tra le altre cose Mass e tutto il resto e l'ha vinta è stata secondo me la più bella vittoria che ha fatto dal professionista perché tutte le altre le hanno maturate da fughe e quindi mi sembra che sia maturato il problema di Ciccone è un problema proprio da psicologo perché lui è uno ipocondriaco appena e mi aveva fatto insomma dopo purtroppo la cosa che era successo lì all'intervista aveva picchiato il ginocchio pensavo che effettivamente quello ne risentisse e invece non ha risentito e quindi è un diciamo che l'ha aiutato la Madonza l'ha aiutato sì la Madonza la Madonza l'ha aiutato però devo dire che non so come ha fatto però forse l'ha fatto bene perché a Sassotetto era fortissimo ma infatti è andato forte a Sassotetto ha perso ha perso la vittoria per un pelo l'ha battuto Roglic non è che l'ha battuto quindi Ciccone molto bene il tirano adriatico ha dimostrazione di continuità e quindi di picchi di forma altame d'anti cioè c'è un picco di forma e no perché cioè ha buttato via un giro un giro all'inizio del mese cioè a febbraio voglio dire e ora siamo a metà marzo è ancora lì che va forte quindi per invece per Pogaccia io l'ho giocato ho perso la quota era 25 l'ho giocato a 15 o a 17 mi sembra forse Pogaccia perché mi diverto anche a fare queste bischierate qui Pogaccia secondo me per la Sanremo sì ma avevi fatto questa domanda ho visto che le cose magari erano molto più alte l'hanno abbassate radicalmente eh ora sì allora per conto mio come l'ha vinta Moritz la può vincere anche Pitcock per esempio no Pitcock in discesa va più forte di Moritz io non ho mai visto io non ho mai visto in tanti questi anni e non ho visto i discesisti eh da Mosè da Freuler a Johansson eh anche Zidori eh ho visto gente che scende in discesa che andava forte in discesa ma questo ragazzi fa paura non sbaglia una curva pennella le curve velocità discivola la bicicletta in una maniera pazzesca la vittoria delle strade bianche l'ha maturata in discesa eh a scendere per andare a prendere le sante marie quindi anche Pitcock per me è uno che da annoverare fra i tantissimi favoriti perché la Sanremo è una cosa è imprevedibile è aperta però per come va Pogacar e come scatta Pogacar eh se lui gli parte alla Nibali come partì Vincenzo quando la vinse e può vincere sì la Sanremo hai voglia la vita che appucci la Sanremo può vincere anche in Pogacar però Sanremo la possono vincere non fare come l'anno scorso a non esagerare cioè l'anno scorso è stato un po' troppo hai provato dalla Cipressa a fare no no dal Poggio ma troppo presto dal Poggio facendo lavorare l'anno scorso non aveva la squadra che ha quest'anno e secondo me quest'anno ci avrà una squadra che lo aiuterà molto molto meglio rispetto a quello dell'anno scorso e comunque la tua domanda la può vincere sì hai voglia io ho giocato ho giocato tre corridori ci vuole ci vuole un po' una bella dose di culo anche no e non ho giocato Vanderpol perché non c'è la quota però io ho giocato alla quota alta mi sembra oltre 40 41 una roba del genere perché vi vorrei ricordare che io ho preso anche grazie a un mio amico ma l'idea era la mia quando vinse Nibali si giocò a 210 e cosa Sanremo si si sta parlando della Sanremo Federico c'è la torta la torta io lo so e quindi io ve lo ricordo tanto per me non è che poi e ho giocato Ganna a 41 perché Ganna secondo me ha l'incognita Pitcock ma se dovesse andargli male a Pitcock e Ganna magari è ancora difficile è molto difficile è ancora in quota come secondo me è difficile Ganna lo faranno lavorare ancora infatti è difficile faranno lavorare ha già lavorato mi lavorerai da una chance una volta no comunque vabbè io ve l'ho detto che ho giocato la Sanremo la può vincere Van Der Po la può vincere Van Aert la può vincere Vauclen la può vincere De Lille la può vincere sai quanti scenecchi la può vincere Iwan Magro Magro ti faccio una domanda visto che parlavamo Massa no Massa no Piterone Massa la vedo un po' duro Massa la vedo difficile no Piterone no Sagan Piterone è stergato eh Tirena Tirena Adriatico visto che stavamo parlando della Tirena Adriatico Robic ancora Van Aert no Van Aert e visto che ha parlato che si sono nascosti o no cioè dov'è la verità quanto vanno e quanto non vanno quanto si sono nascosti e quanto si sono nascosti non hanno le gambe cioè ci sono tre noi che avevamo selezionato per due tappe quella dei muri e quella precedente no con quelle qual'era quell'altra non mi ricordo Tortorete però non si sono visti né Van Aert né Van Aert né Van Aert né Pilcoc che sono quei tre papabili per la Milano Sanremo come stanno loro hanno bleffato stanno cercando il picco il picco proprio al giorno della Sanremo eh Mario cioè loro sono scientifici perché il giorno da Sanremo avranno il picco preciso e ci scherzi ma avvalate col giochino da andare forte sempre dovunque e comunque come dice il Moulat e questa è la passo un ancora micro monumento a parte la Sanremo dopo si guarda la classifica io ti ho scorto sempre ti sento sempre parlare di quella classifica però non mi sono sempre perso da dove prendi quella classifica sai che l'ha detto la diversa da ProSight 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 Instat da lì era? quella è la classifica di tutti i tempi però è una sì se vai a guardare il ranking all time c'è scritto te lo devo dire in inglese era ProSight che è stata avevo sentito due volte e me l'ho sempre perso ProSight Instat no però vabbè è una classifica ipotetica perché lascia il tempo che trovo certo però io guardo sempre la classifica capito te la volevo far vedere no ma io parlavo parlavo di Kelly perché avevano intervistato Sam Bennett e gli irlandesi parlano tutti uguali quella flemma e a me è venuto in mente Kelly e se te guardi l'albo d'oro di tutte le corse del mondo Kelly è lì cioè Kelly è un fenomeno un altro fenomeno capite la classifica la gente se l'ha dimenticata primo è primo è Mers secondo Kelly e terzo Moser quello era il numero di vittorie era il numero di vittorie globali in generale no cioè come era numero di vittorie e tengono conto anche dei piazzamenti quindi quella cosa lì viene fatta in base ai punteggi che sono quelli di oggi ma non tiene conto in realtà del valore delle corse dei corridori cioè secondo me è una classifica per ridere però rende l'idea in qualche maniera se te consideri che non c'è pantani mi sembra non ci sia nemmeno quindi di che si parla quindi è una classifica Marco ha vinto poco è quello il discorso selezionava i picchi anche lui volevo ti volevo far vedere Armagro una volta che noi si guardavano questa classifica la classifica invece che si guardavano un'altra volta la classifica che mi piace a me i tre grandi gini le cinque monumento e il mondiale e il mondiale e l'olimpiè da quando è professionista banatta non c'entra un cazzo non c'entra un cazzo non c'entra un cazzo no perché noi si guardava questa classifica mettila un po' mettila un po' però lo sapevo un commento dal Magro su questa classifica ma in generale non è sempre piattata no ma non su banatta non era su banatta sapete semplicemente o se ne pensavi di questa classifica era su banatta questa era nata così se no io la guardavo non è mica per banatta io guardo che è colto meno ma non ho capito io la guardo non è che si è abbassato il microfono Mulla io la guardo la guardavo per conto mio perché mi garba questo tipo di classifica qui poi alla fine andando in fondo si è abbassato il microfono Mulla ti stanno boicottando ti stanno boicottando sì 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 devo stare zitto si vede no dicevo che hanno una valenza relativa chiaramente Vanarte è un grandissimo è il mio ma perché la butti sempre su Vanarte ora basta sei te che mi metti in bocca ho detto chi è questa classifica la guardavo per conto mio capito quando non so cosa fa io c'è qualcuno io guardo questa classifica scorrevi molto in fondo per andare a camionare scorrevo scorrevo allora microfono c'è picchi di forma questo è il mio c'è picchi invece di non so di crisi capito ma scusa alza il volume però da lontano ascolta è impazzito mi ha dato un microfono pacco che si abbassa altinamente non so cosa fa ma scusate ma Piazzano dov'è? è a metterci come al solito è sparito non si sa se volete dicevo Banarte è nata solo perché guardavo questa classifica li guardavo tutti scorre 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 alla fine guardavo era arrivato ultimo ultimo praticamente c'era Banarte non mi tornava tanto con i discorsi che sentivo in giro capito era solo vero è nata per caso però la classifica è una cosa a sé allora è come si parlava prima del libro che ha scritto Luca insieme a me noi abbiamo fatto un discorso ecco cosa è venuto fuori piazzare il meme della serata no purtroppo non vedo nulla ragazzi perché mi è impazzito il telefonino però il discorso è è una questione di cuore è una questione anche di valutazione ma il bello allora io vi devo fare complimenti a voi tutti perché il ciclismo è bello anche per queste cose mi sentite? sì sì perché avete creato un movimento col fantasy cycling veramente bello sono tanti cioè si è abbassata la quota innanzitutto di chi segue il ciclismo io oggi parlavo per esempio mi è arrivato l'ho detto anche in trasmissione oggi mi è arrivato un messaggio da parte di di Nicolè Sarri che è figlio di Maurizio Sarri che anche lì loro sono impazziti per il ciclismo lo stesso Pioli ieri ieri mi ha telefonato in diretta quello che parla ora a televisione ma Sandro che no 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 Sandro non lo fa perché lo sa l'allenatore non lo sapeva ma messaggiate qualcosa però effettivamente tra le cose la Juve è 4 a 2 stasera sì ho preso al fantacarcio ma ho fatto doppietta contro la Bioma porca puttana si vinceva 2 a 0 e ci hanno rimontato 2 a 2 in due minuti ci hanno fatto 2 gomma no ma meno male meno male che a Degri comunque va per l'1 a 0 di solito comunque a parte questo ecco volevo fare i complimenti ma il Magro non la vedo no no la vedo ora facciamo fin il discorso al Magro poi ci mette poi ce l'ha detto io su una cosa vai no vi volevo fare complimenti perché cioè soltanto complimenti ma non è una leccata lo sapete Magro si è fatto il record di spettatori 655 stasera merito tuo per forza perché ci sono io per forza hai superato Alberto Bettiol che era 6 e 40 una roba del genere Alberto Bettiol dice che sono diventato famoso perché lui ha vinto il giro delle fiandre alza le braccia al cielo Alberto Bettiol però il discorso è proprio che la quota che segue il ciclismo oggi di età si è abbassata notevolmente grazie a voi io vedo c'è tanta gente che segue il fantasy che dice mi segue mi dici come si chiama la tua squadra e questo è veramente un bel un bel traguardo che avete raggiunto e vi devo fare complimenti perché c'è gente che se ne intende ma se ne intende ora non capisco cioè in generale disquisisco sulle tecniche le tattiche che fra tutti non ci capite una sega però però sui corridori e su sull'analisi dei ragazzi cioè di quelli che corrono veramente c'è una competenza incredibile poi non c'è competenza e si parla solo da tifosi come parli Federico della come va la corsa e io nonostante abbia corso qualche anno fa mi sono sempre informato e adeguato quindi la corsa la vedo ancora come la vedevo un tempo io la corsa la vedo prevedo quello che può succedere anche poi tutto non è che posso indovinare però io volevo fare complimenti perché avete creato un movimento e vi faccio vi imploro ancora di andare avanti perché 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 siete bravi Madro io ovviamente ovviamente bisogna di qualcosa io ti devo stuzzicare non pensare di venire qui e di no bravo tra virgolette no no a parte tutto no è stato bello l'altro giorno passo in bicicletta ero con il mio fratello si andava sabato mattina lato calci ma non si andava a falsiera si andava verso San Giuliano e c'è uno fermo di lato che era uno della Butese un ragazzo della Butese aspetta aspetta noi la sappiamo questa è bella tutti sappiamo che il bimbo della Butese ha smesso ha smesso ok c'era sto ragazzo della Butese mi viene da arrivare mi riconosce che c'è la rotatoria quindi rallento un altro passo mi fa Fede io mi giro mi fa oh digli al Magro che bimbo da Butese ha riniziato no era avuto un momento di un picco di un picco di forma al contrario è vero è vero è vero no e poi è stato bello a parte a parte questo episodio è stato bello sia a Siena che poi incontri la gente che oh ciao io gioco a Fantasiking anche i ragazzi laggiù all'arrivo a Follonica dove appunto siamo andati nel mullà che c'era sto ragazzetto alla Siena ho incontrato gente più o meno di età media anche età sopra 40 mentre a Follonica si è trovato questi ragazzetti col cellulare in mano con l'app che guardavano risultati e lì ai pullman delle squadre quindi questo questo è bello grazie Magro ma era giusto sottolineare che è proprio una fascia ampia tra il meno giovane e il più giovane gioca e segue il ciclismo ora metti la classifica chiusa parentesi questa è la classifica che guarda il mullà che commenteremo dal primo all'ultimo giusto questa è una classifica più veritiera rispetto a quella all time di quello che dicevo prima io queste sono però anche qui c'è da fare un distinguo perché le corse che facevano un tempo Fausto Coppi Binda Bartali non è che ne facevano tantissime le corse erano quelle lì quelli erano gli appuntamenti cioè le grandi classiche le grandi corse tolto dove l'hai trovata su Pro Cycling no no è uno paulociraci.it si guarda che invece alza il volume del microfono il picco di forma non ce l'ho oggi oggi non è più un momento di picco beh non so allora questo tiene conto delle vittorie giusto questo si è i piazzamenti no purtroppo il limite è quello lì il limite è quello lì qui c'è solo vittorie cioè c'è Sanremo Fiandri Rubè cioè le cinque monumento i tre grandi giri mondiali olimpiadi da quando sono è che secondo me rispecchia il valore del corridore effettivamente è questa qui è più veritiera di quella che cioè sono due cose diverse su quella che avevo detto io dove c'è Moser al terzo posto e De Vlamic al quarto e Noe al quinto non è veritiera secondo me perché sì anche lì tiene conto dei piazzamenti Sagan per esempio è uno che si è piazzato più di 90 volte chiaramente Max è l'unico che l'ha vinte tutte sì questo è chiaro certo gli altri gli altri aspettiamo Pogaccio aspettiamo Pogaccio c'è ancora altri anni poi dei primi vedi c'è Bettini perché vabbè otto vedi io ti dico i livelli più recenti Kelly hai visto ha messo bene Magro quanto contano i piazzamenti secondo te il secondo il terzo il quarto il quinto hanno una valenza fino a cosa le conteresti fino al quinto posto o fino al podio hanno una valenza per dimostrare la continuità del corridore vuol dire che quel corridore lì è sempre è sempre presente però la valenza nel ciclismo conta le conta le vittorie non ci sono cazzi sono quelle lì vai giù vai un po' giù guardiamo un po' giù però questa tanto lo so dove vuoi ammullare no non voglio assolutamente no no per vedere qualcuno magari più ricerche se guardi Cancellara che era un cacciatore Tombone che era un cacciatore sono cacciatori di corse sono davanti a From che ha vinto 4-2 cioè voglio dire un giro d'Italia e due vuelta no due giri d'Italia e una vuelta secondo me Magro c'è un nome in questa pagina che si sta vedendo ora che è un po' stona che secondo me è troppo indietro non so come la pensi Valverde sì sei è un po' indietro Valverde Valverde rispecchia ma Valverde rispecchia la sua carriera lui quante corse io l'ho detto mille volte lui ha buttato via delle corse e secondo me le doveva vincere ma almeno 30 corse gli mancano a Valverde minimo la buttate via no Magro come dicevi te vedere Frum che è sotto Bonen cioè o alla pari di Cancellara è giusto se se te vai a guardare e consideri le grandi corse con le classiche secondo me quello che diceva Chiampanino che l'altro giorno mi chiamò no Chiampanino scusa Chiatellino non so se lo conoscete Chiatellino è un personaggio spettacolare grandissimo appassionato di ciclismo e è stato colui che ha fatto arrivare a Pinerolo il Tour de France ha fatto una serata con tutti i campioni del mondo compreso Mersino Gimondi c'era Vittoria Dorni Bettini cioè non lo so quello che gli è costato però Chiatellino è un personaggio molto così quando io dissi di questa classifica giustamente come ricordava mi la mi ha chiamato scandalizzato perché dice ma come fai a dire una cazzata di questo genere è vero ha ragione ma io non aveva capito il senso e il nesso di come l'avevo messa io io l'avevo un po' stato perché Kelly che secondo me è un corridore veramente importante che ha vinto cioè è presente in tutti gli albodoro cioè ha vinto sette pariginizza cioè conterà qualcosa no ha vinto sette pariginizza mi sembra di fila fra le altre cose quindi è come Valverde Magro quattro frecciavallone se non sbaglio una roba del genere cioè non racconta qualcosa no certo quindi per questo motivo frecciavallone non è qui dentro e quindi questo è la diegi quattro volte così sì però che la diegi e lui mi disse prima ci sono i i grandi giri da contare no i grandi corridori parti dai grandi giri poi i campionati del mondo e poi le grandi classiche questa è la giusta dimensione del corridore anzi quindi il punteggio ponderato fondamentalmente giusto? aspetta ai primi tre posti devi considerare tour giro e vuelta subito dietro devi considerare il giro di Svizzera che era il quarto giro considerato da tutti come come durezza come importanza perché comunque un po' tutti ci andavano poi dentro i le le i campionati del mondo e vabbè le olimpiadi non esistevano prima però i campionati del mondo e poi le classiche monumento e questo ci fa la classifica perché altrimenti viene falsato e non viene detto la reale cioè il reale valore di un corridore non puoi mettere quella classifica lì se non sbaglio quindicesimo Coppi cioè Moser davanti a Coppi non c'entra non c'entra nulla no? quella classifica lì tiene però ci sono molti che sono specializzati solo sulle classiche che non vinceranno mai dei giri quindi lì è poi difficile io credo che comunque nell'ottica del tifoso del fan le tre settimane macchiano perché te puoi vincere Gigi Svizzera Tirena Adriatico Pariginizza Delfinato Valenziana Ruta del Sol però le tre settimane contano quindi il tour in primis perché è la corsa più importante del mondo poi viene il Giro d'Italia anche se per me il Giro d'Italia è più importante del tour eh lo dico da italiano parlo la Uetta secondo me ha meno valore di queste però ci sono tre settimane anche queste sì ma oh recentemente magari ha lo stesso valore più o meno per chi la corre però storicamente la Uetta ma ora se no cioè prima non la correva nessuno no? era aprile vedrai c'erano tutti gli spagnoli e basta se no davvero non è per avercela con la Uetta però se vai a vedere chi la vinceva prima il cambio il cambio di calendario ha voluto tanto dire per la Uetta però insomma in linea di massimo al tifoso di ciclismo guarda quelle cose le tre settimane i campionati del mondo e le classiche monumento io te lo dico ma infatti questa classifica secondo me ci sta cioè come sì ma infatti te l'ho detto non vuoi fare le cose troppo difficili poi fra l'altro contadori gli mancano vabbè gliel'hanno levati però comunque contadori gli mancano due due giri e sarebbe il primo dei recenti diciamo dagli anni 2000 a oggi sarebbe il primo contadori sì beh lì ma anche hamstrung allora sì però sarebbe hamstrung vabbè sì sarebbe anche lui a otto no un mondiale io ribadisco ancora però sarebbe comunque primo contadori perché ne avrebbe due in più e sarebbe a no cioè prima ragazzi purtroppo non fa più parte purtroppo del ciclismo però sì chi l'ha detto chi l'ha detto no chi ha l'ho detto no ho capito Federico ma lui l'ha vinto sulla strada eh lo so ma io guardo la penso come te era tutti uguali non facciamo discorsi a bischero la penso esattamente come te guarda esattamente no io l'ho detto anche in televisione sicché ho preso degli imbecille ma hanno detto no sapi che sono argomenti spinosi ma non ne puoi parlare però ma a me non me ne frega niente io l'ho detto anche in televisione perché la penso così perché comunque cioè c'è stato un periodo del ciclismo che era uguale per tutti ci sono stati più di un decennio che era uguale per tutti e quindi ragioniamo mano guarda si chiude velocemente sto capitolo se quelli dietro erano tutti l'indie toglievano il nome di Armstrong e lo davano al secondo punto se non l'hanno fatto è perché lo sanno anche loro che era eticamente scorretto e quindi ciao però vabbè io sono d'accordo sicuramente a posteriori e poi è stato tutto un male no quell'era è stato un male chiaramente e certo allora forse le paga le conseguenze il ciclismo è tuttora non sto mica dicendo che però era uguale per tutti era un sistema facevi quel sistema e dovevi fare con quel sistema lì se no non andavi da nessuna parte quindi è come quando c'erano le mini io l'ho detto anche al giorno nella Formula 1 c'erano le minigonne è stato un periodo con le minigonne no c'era una macchina che l'avevano fatta sei rote la Tyrrell però era una macchina rimbalzava tutte le volte però era una macchina nel periodo delle minigonne se non mettevi le minigonne tutti è una dana in nessuna parte la macchina sbandava quindi i tempi le cose le benzine troppo complicati comunque Moulin che stai facendo? no no leggevo qualcuno diceva qualcuno diceva ci sono alcuni corridori che hanno vinto quattro monumenti su cinque e sono praticamente sconosciuti sono sconosciuti perché magari sono le altre epoche che ne so sconosciuti per noi perché voglio dire ora non so a chi si riferisse però ragazzi come siete? io ho calcolato la pariginizia ora poi parliamo dei top flop sono undicesimo ho perso una posizione chi è quella merda che mi ha scavalcato? ma tu stai parlando della Lega o del campionato? campionato no lui parla solo del campionato perché nella Lega ha la metà dei miei punti una squadra di merda su quell'altro una squadra di merda ma credo che non abbia superato la banda del DS credo eh non lo so chi ha superato la banda degli ex ma non credo perché c'hai i miei stessi corridori alla Nizza non credo credo che sia il nono Dino Team lo sai è il decimo no no perché c'hai i miei stessi corridori Dino Team vedrai perché c'ha Parepentre Jorgensen Giuseppe Di Norfo ti ho in culo attenzione guarda che sono qua che ero 23 adesso nono come si chiama la tua squadra Dino Team pezzo di merda come farsi amici gli utenti comunque Parepentre è stata una patria del fatto dell'altro giorno a che fosse scava la fosse ti è piaciuta mullate che sei un filosofo puoi capire quelle ironie ma è diverse ne hai fatte una serie una sfidza parepentre parepentre esatto parepentre poi c'è anche un'altra calma 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 no anche un'altra è stata proprio una sfidza sì perché era un forma quel giorno lì vabbè ragazzi io bisogna che vi saluti però perché se no mi tirano qualcosa dietro perché sto urlando noi ora si parla dei top flop insomma sarà un argomento spinoso quindi quindi i buoni fritti nox sono queste gente qua quelli buoni fritti sì sabato diretti integrale magro vero sì 9.45 9.45 entriamo in diretta c'è anche il nostro mentore Mosè sì bene le prime tre ore potete anzi forse anche quattro ore potete cantare no beh sì no beh quello ormai non ci fanno no ma io veramente ci sono delle persone che cioè te l'ho detto come quello io lo guardavo prima su Twitter che dice 20 minuti dite che è un fenomeno un fenomeno anche basta dai cioè fanno fenomeni che cosa devi dire che devi dire magro che vince la Sanremo eh l'ha già detto te l'ho già detto ho messo tre nomi tre opzioni me le ricorre da no un 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 punto secondo me dice la porta seriamente sì la porta ci sta me la senti anche io questa volta ci sta allora io non ho fatte 10 di Sanremo no quindi 10 Sanremo qualcosa non ho vinta neanche una giusto non sono nell'albo non sei l'unico ma neanche piazzato però neanche piazzano ma vi posso assicurare che quando si partiva quando si partiva da piazza castello ora quest'anno si parte da viate grasso però vabbè io pensavo di cioè pensavo di vincerla cioè io facevo di tutto per cercare di vincerla poi dopo chiaramente un anno l'ho vinta con gavazzi perché tirai come un ciuvo tutto il giorno che c'era via una fuga e si doveva riprendere in tutte le maniere poi comunque ha vinto Pierino noi siamo stati tutti contenti però non c'è un corridore che parte da Milano che non pensa di qualche maniera una fuga qualcosa c'è sempre di mezzo poi è chiaro che perché sicuramente è più improvedibile dal tuo punto di vista te quando l'hai fatti qual è la tua difficoltà cioè cosa incontravi la difficoltà non ne vinciti magari la volta che ti dava più noia cioè poi nella pratica chilometri chilometraggio quando arrivai sul poggio pur essendo una salita del cazzo quando sfiammavano e facevi fatica già i primi sintomi li sentivi già su su Bertha già lì e cominciavi a accusare e poi la cipressa le prime non c'era per esempio però facevi 300 chilometri e quando arrivi a 300 chilometri io dico sempre dopo 220 chilometri si separa ora stavo per dire una cazzata grossa però si separa si separa l'acqua l'acqua fina da quella grossa diciamo così come sopra 2000 in montagna solo che non ci si va più solo 2000 c'era quello dice ma come faccio a separare l'acqua fina da quella grossa corsetaccino no vai lì e separi l'acqua fina queste erano le grandi cazzate di una volta che la capivano tre però quelli che la capivano ridevano fino a domallati e quindi niente va bene dai ragazzi è come quello dice da scaricare un camion di mattoni ci danno anche i guanti a perdere quello diceva ma se erano di piccioni venivo di mattoni no anche no va bene ragazzi buona buona serata buon top flop salutate Marcello Piazzano salutate ha detto che ha dei casini ciao ha dei casini salutatemi anche a me mi ha scritto a me mi ha scritto che sta cercando il picco il picco del letto vabbè il picco dell'incazzatura me l'hai fatto venire prima comunque va bene ma se si fa una discussione troppo banale non è interessante scusami va benissimo così ciao ragazzi non so come fa a togliermi aspetto ci sei girato no perché sono bloccato eccolo qua ciao ragazzi ciao comunque anche questa diretta non sta piacendo se hai fatto il picco di 655 spettatori neanche la metà nemmeno la metà che malederti allora dorme dorme mai sta dormendo la discussione ora se vogliamo dire la nostra aberta partitessa o facciamo dei top flop e da lì poi si fa le discussioni dai subito polemiche vai le discussioni le abbiamo già ci state già abbastanza le polemiche allora l'ho scritto così ragazzi perché non ho avuto tempo di fare le grafiche perché si è fatto veramente tutto dieci minuti prima della diretta come scusa quando dieci minuti prima io alle 9 e 31 avevo ancora dei messaggi lì di di discussione cioè no 12 minuti allora corsa finita alle 3 ricordiamo è colpa del belta è colpa del belta allora commendiamo parlate 6 alla volta con i ragazzi alle 8 meno 10 alle 9 e mezza eravamo ancora in discussione sì ma il discorso era partito alle 3 però ti stanno boicottando il discorso era partito alle 3 prima della fine della corsa già e poi si è finito alle 9 e 31 no ma io ero già ero già disconnesso allora vabbè plus pogaccia godù più 3 vingegaard più 1 samoyes più 2 mother paules più 2 bardell più 1 jorgensen più 2 civaco più 1 coi e merlier più 2 più 1 qui vorrei fare una piccola polemica col mullà il mio jorgensen che non ho preso raggio era stato dichiarato a 9 uscito dal gioco la vera domanda è perché si va come amaios lo so me l'ha mandata il bert vediamo un attimo in futuro è un tuo obiettivo no perché a me alcune me le scrive così il tre non so per te jorgensen vediamo vediamo dai cioè considerando che è arrivato cioè ho visto certa gente avrà detto i primi 4 poi dopo 5 6 poi c'è un dicesimo era parepentre quindi nel senso io guarda l'unica che non hai dato sinceramente è Bardet ma così no perché Bardet io non l'ho visto male anch'io l'ho visto male poi punti l'ha fatti però se bisognava dare un giudizio chi ha preso Bardet ha fatto ma io di chi ha preso Martínez ah senza mele dubbi gli ex russi russi in maiuscolo Pedersen ha fatto bene però si è ritirato e costava tanto quindi non è stato trovato la plus e è l'unico che manca diciamo e anche Merliel insomma la tappettina ha vinto 200 punti l'ha fatti sì Merliel era lì sì era lì però finché uno un velocista la tappa la vince fa diversi punti insomma è giusto che Penda al plus il top è stato Koi chiaramente perché comunque è ancora sottocotato per il valore che ha quindi giusto così e e poi e poi ah Wingergaard eravamo in dubbio perché perché Wingergaard i punti l'ha fatti eh costicchia però costa parecchio allora diciamo questo diciamo questo se Pogacian avesse fatto il Wingergaard sarebbe stato zero sicuramente ok questo è abbastanza scontato eh giusto per darvi una una un parere sul criterio che abbiamo usato allora i flop in effetti di grandi flop c'è stato solo Martinez dei favoriti perché poi l'articomunque sono persone cioè o velocisti oppure comunque eh Schermosi è stato aggiunto così a caso all'improvviso questa per esempio non mi trovo non sono stato consultato su questa cosa attenzione Schermosi schi cala 1 a 9 allora lui vuole calare allora il Berta se voleva calare Schermosi come va l'arte praticamente è vero ora si arriva Schermosi a caso che costa 9 portato a 8 però uno che costa 70 si fa fatica a calarlo capito questo mi torna molto strano questo ragionamento Schermosi effettivamente la scusa sei tu che non hai sbaglio dicevi tu che anche se non costano troppo no ho capito però c'è un limite a tutto alla decenza era dato ben favorito cioè non favorito ma se Schermosi prende meno uno una corsa a tappe allora ha fatto i 15 punti e andare a meno 10 di prezzo sì in proporzione allora fammi leggere la meno sa la Martinez delusione totale penso perché chi l'ha preso ha preso una fregatura clamorosa Ioni Zagirre mantiene sempre il discorso che fuori dalla Spagna ormai non si vede più Schakman l'ha vinta in passato due volte scritto bene Schakman va bene comunque io ho copiato quello che mi ha dato te non l'ho nemmeno visto io ho copiato quello che ha scritto il mullà Delì Delì però Schermosi non l'ho scritto io vabbè l'ho scritto io mi assumo la responsabilità di una cosa che non ho fatto va bene Delì meno uno allora soffermiamoci un attimo delusione Delì delusione non ha nessuno che li tira le volate cioè oddio c'era Guarnieri Guarnieri è andato è finito Guarnieri io non riesco più di avere il problema con quella squadra hanno preso la pipista di De Marche comunque ha fatto bene è andato al White Tour con Iwa è andato alla paricilizza lui ha fatto delle corse bene però comunque ha vent'anni è la prima stagione seria che fa lui è andato lì è ormai preso dall'entusiasmo vado lì faccio la Sanremo faccio il Nord faccio il Fiandria ha visto che l'ha fatto tutto poi è arrivata l'inizio è andato in calo un attimo ha visto che non toccava palla e si è fermato si è fermato perché probabilmente ancora non c'è ancora non è che c'è tutta questa esperienza per fare tutte queste corse di fila no secondo me era un po' sopravvalutante era un po' preso dall'entusiasmo probabilmente beh però scusami alla fine si è ritirato cioè c'erano rimaste due tappe in salita in cui non avrebbe fatto niente sì vabbè non è un tiro ma anche per le prime una cosa è arrivato terzo non ce n'è una che ha fatto bene comunque non ci si aspettava ci si aspettava qualcos'altro dai allora fermi su Banati ci si arriva c'è una spiegazione su Banati c'è una spiegazione chiaramente se davamo retta Alberta le polemiche sarebbero arrivate allora dillo dillo vediamo aspetta aspetta è stata una lotta no una lotta io ho detto fate quello che volete aspetta 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 no ma che mullà dice delle cose io posso dire la mia scusami mullà andiamo andiamo deve dimostrarla dilla tua devi dire le tue ragioni però ho detto poi giustamente io gli sto semplicemente dicendo di darti la possibilità di esprimere però facciamoli vedere di scensurare proviamo allora fermi un attimo allora se era sempre a De Lì aspetta un attimo allora tribunale elettorale aspetta allora De Mar meno due ma il solito problema di iniziale non si vede Groves meno uno effettivamente De Mar diventa uno scalatore comunque si dicevi cose di sprint insalita occhio al fiando De Mar e Matthews poteva fare molto di più e tanta gente l'ha tenuto in squadra perché a qualche punto lo garantiva invece ha fatto poco e Schilmoso è stata appunto questa new entry all'ultimo perché effettivamente poteva essere uno da top 10 poi all'RR giustamente dice l'aveva scritto prima Schilmoso se non veniva buttato per terra e non forava no poteva fare possibile outsider ha fatto 15 punti quindi per quello che diciamo sempre e visto che quest'anno c'è la regola di non stare a guardare troppo quanto se costano troppo poco salvarli sempre secondo me va bene infatti su Schilmoso hai mai chiesto e io ti ho detto ci può stare Schilmoso e Mullah ha detto bene pensa che tempo lì però abbassa a Vanarte a meno uno come se stai dillo forte allora questi sono i top ok e ci arriviamo a Vanarte ragazzi buoni allora i top da terra patriatico sono i seguenti allora allora flop roglic più 3 allora la domanda qui potrebbe essere potrebbe sorgere spontanea no vabbè roglic uguale a Vanarte più 3 scusate roglic uguale a Pogaccia più 3 perché ci sono tanti criteri no dicono di Matthews che ha fatto più punti di Bennett magari è vero non lo so a parte sempre pochi Matthews costa 35 Bennett 31 no ha fatto leggermente più punti Bennett secondo me e poi Matthews costa 35 milioni costa 4,5 milioni in più costava di Bennett che non merita San Bennett 121 Matthews 107 Matthews ha fatto meno punti di Bennett meno punti e costa 4,5 milioni in più costava quindi sì sì allora su roglic ha preso quanto Vanarte porca quanto Pogaccia perché perché allora roglic comunque era il corridore più costoso a questa Tirreno e che dirsi voglia io non l'ho preso però se roglic va come se l'ha detto chiaramente la storia parla che un roglic quando va in una corsa una settimana comunque se la gioca sempre quindi è il favorito e dare un più 4 è vero che l'ha dominata però Pogaccia era dominato in un modo roglic in un altro roglic costa un pochino meno ma con una tappa tagliata con tante cose che insomma la Tirana Adriatico è stata di un valore secondo noi un pochino inferiore alla pariginizia visto il podio ci siamo sentiti dare il solito più 3 e non un più 4 a roglic che ci poteva anche stare in un multiverso però ci siamo sentiti di dare un più 3 perché se no al giro se roglic vince il giro si dà più 12 capito perché la Tirana Adriatico comunque vale ma vale ovviamente meno di un grande giro a tappe quindi questo è il giudizio di roglic che poteva essere un 3 e mezzo 4 però abbiamo decisato di più 3 per non alzarlo eccessivamente Almeida poi 2 Tao più 3 Camna più 2 Ciccone più 1 Pinocchi più 1 Philips in doppietta più 2 ci sta tutto e Ganna più 1 considerando che chiaramente i velocisti sono una categoria a parte sempre veloce non è che si può fare non paragoniamo i velocisti a quei dati perché è una categoria assieme sì sì ma è stato premiato come pogaccio a roglic ragazzi si sa delle 3 maglie tutti e due hanno vinto 3 maglie tutti e due hanno vinto 3 tappe tutti e due hanno fatto più o meno i soliti punti l'unica differenza è che c'è 17 fantamilioni se non sbaglio una cosa così nel costo però c'è anche a considerare che roglic una tappa l'ha vinta perché è stata accorciata no vabbè non fa questo comunque ci sta per tutti e due dai più o meno un milione più un milione meno cioè non è quello che fa la differenza un milione più un milione meno alla fine cambia poco cioè anche Ciccone ci poteva essere anche più 2 è vero Camna più cioè non è quel milione lì che fa la differenza è un po' il criterio generale che deve essere seguito più o meno poi ci sono degli errori delle delle magari delle considerazioni non avendo il prezzo mullà con la virgola e chiaramente bisogna arrotondare sempre per di fatto per il cesso è chiaro cioè non è un milione più o meno però quando poi si discute di ora si scende quando praticamente la questione era questa è che dai diciamo la verità cioè aspetta ci si arriva un attimo un attimo un attimo non lo capisco perché tu sia così carico non è che sono carico perché mi hai rotto le palle per due ore sarò carico poteva starci anche paradossalmente poteva starci anche aspetta aspetta poteva starci paradossalmente anche il più due di Pogaccia il problema è che Pogaccia ragazzi ha stradominato proprio anche a livello non di punti ha stradominato rispetto a Robic quindi se noi davamo il più due a Pogaccia tutte le classifiche fermo il dominio di Pogaccia ha vinto contro chi ha vinto il Tour de France Godou comunque ha fatto il suo l'hanno attaccato Pogaccia l'ha staccati Robic non ha vinto a livello di punti non ho capito infatti quando siamo andati a ragionare sulle virgole 2,8 abbiamo deciso di fare 3-3 perché la vittoria di Pogaccia per noi ha un valore e quella di Robic un altro e si è detto di dare più 3 a tutti e due punto è questo il giudizio poi magari sarebbe stato un 2,6 a Pogaccia e un 3,6 a Robic abbiamo arrotondato 3 tutti e due assolutamente assolutamente questo è il fantasiclismo però come si è sempre detto le valutazioni prendono serie ovviamente per quanto riguarda una tabella punteggi e poi però la valutazione soggettiva in una minima parte ci deve essere e c'è perché se no è impossibile se no Vanart se guardiamo la tabella punteggio al gorito meno 20 doveva prendere perché Vanart storicamente alla Tirreno Adriatico o nelle gare di una settimana ha sempre fatto una vagonata di punti dove ci sono una cono individuale più di 600 punti l'anno scorso alla Pariginizza e quasi 800 alla Tirreno di due anni fa non dico altro ecco guarda questa è una battuta più 3 pettescattini a 150 metri contro 5 è troppo è una battuta ma fondamentalmente il ragionamento alla lunga è stato quello ma andiamo a scannarci sui flop flop ah lascerai un visibing flop aspetta aspetta vediamo se riesco a rimpicciolire leggermente se ci entrano tutti basta che metti il primo nome e Mullara poi è contento prima di scannarvi dico la mia velocemente così poi vi lascio scannarvi mancano due nomi secondo me qui uno vabbè ne abbiamo già parlato prima della live Adam Yates che costa 30 e effettivamente ha fatto è uscito dalla top 10 ha fatto undicesimo se non ricordo male e non ha fatto quel gran che di punti si poteva dare un meno uno e l'altro nome che io avrei messo io mi aspettavo un po' di più è Girmai perché costa 33 credo che abbia fatto solo un piazzamento io avrei più che Girmai e l'avrei abbassato di uno e mi sarei aspettato più Vlasov che costa tantissimo Vlasov non c'è però è difficile dare un e ci stava ci stava anche Vlasov no ma Vlasov è stata riassegnata è stata riassegnata la posizione a Vlasov ci stava anche Vlasov solo che è difficile dare comunque è difficile l'idea di iniziare a dare delle minus a corridori che fanno comunque una top 10 sai che me lo sono perso puoi vedere sì sì Landa è arrivato settimo e l'hanno rimesso al settimo posto sì sì per chi non lo sapesse li erano stati attribuiti a Landa Van Aert e altri due corridori 20 secondi di penalità che alla fine della generale contavano solo per Landa per chi si è messo a fare zigzagli sui paletti per evitare il pavè Landa che lui con le cadute infatti l'ho visto assurdo e niente però alla fine siccome il percorso non era diciamo non c'era nessuna segnale etica o barriere praticamente hanno fatto protestato hanno fatto appello e gli hanno tolto questi 20 secondi a Landa e a tutti gli altri tre corridori allora i flop Van Aert meno 3 Van Der Poel meno 2 La Philippe meno 1 Indle meno 2 Arends Pilkot Simbos Lucenti Sagar Madouan Nizzolo Conor Cavendish Barghil Confra Baggioli e Guillain-Martin meno 1 Allora discorso Van Aert discorso Van Aert per me il Moulin era un meno 4 no per me era meno 5 dai Moulin dai dai cosa hai dato meno 1 a Schirmose che costa 9 5 per 9 fa 45 lui costa 70 no scusa facciamo i conti matematici facciamo i conti matematici Schirmose meno 1 9 9 per 5 fa 45 quindi quanto fa per arrivare a 70 ci vuole 7 quindi doveva essere meno 7 se Schirmose è meno 1 Van Aert è meno 7 chiaramente qui arriva la soggettività calare 7 allora il discorso era il giusto era meno 4 che è giusto secondo la media nostra poi però c'è sempre il discorso che il compagno di squadra di quello che vince un giro a tappe o una classica importante lo penalizziamo non lo penalizziamo lo penalizziamo poco in questo caso Van Aert ha fatto comunque un lavoro importante per Roglic sacrificando le proprie ambizioni di tappa considerate la tappa dei muri che si non ha tirato tanti ha fatto una sfocata sul muro però è devoto alla causa Roglic in quella tappa fermo non fa tanta analisi fagli dire al Berta quanto voleva lui no no vabbè quindi per noi era meno 4 però visto questa giustificante che si usa sempre per tutti i corridori si è calato di 1 però te non la fai sta polemia via ora il Berta voleva cararlo meno 1 allora facciamo sta polemia spiegaci perché meno 1 ti avevi proposto meno 1 era inizio giornale dopo sarebbe diventato meno 2 ma perché il meno 3 è giusto forse anche meno 4 per quello che dici tu però ci sono tanti attenuanti che di solito si usano la prima l'hai detta tu la seconda è quella di non calare troppo chi poi nelle gare successive può essere comprato perché è uno dei favoriti e terza perché non so voi ma io non mi sono mai immaginato un Van Aert che facesse classifica quindi poteva fare no no attenzione no no c'erano due tappe la crono e tutte le volate la lasciamo sassotente calare meno 5 1 che cioè che il discorso che ho fatto al nulla è se cali meno 5 Van Aert Van Aert nella stessa corsa deve avere la possibilità se fa una certa cosa di fare più 5 non è possibile questo perché te hai dato una valutazione alta è la valutazione che hanno quello lì è il punto cioè se no se fossero partiti tutti da uno come valutazione ragazzi è il costo ragazzi è il costo Van Aert il costo che dai all'inizio se io dico se te dai a gioco già le persone un prezzo di 70 a te vuol dire che te dici il messaggio è questo fa punti nel ricorso dove può li fa è una certezza è una sicurezza quando uno te lo prende perché costa 70 che 70 vuol dire questo fa punti e non li fa è chiaro che ha fallito però se li fa non è un grande ho capito ma se può solo perdere e non guadagnare non può solo perdere anche lì non mi sembra molto guarda se Van Aert avesse vinto tutta una tappa e un piazzamento probabilmente non avrebbe preso niente sarebbe rimasto lì se avesse fatto non ha capito le o me fermi 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 tutto però Bertha tenetevi capire no aspetta il criterio ragazzi non è cambiato il Bertha ha detto la sua non è stata accettata perché abbiamo utilizzato il solito criterio che utilizziamo sempre posso dire la mia è uscita questa cosa del Bertha che ci ha fatto discute per ore perché non esiste anche Van Aert la sua meno uno o meno due non abbiamo discusso di quello quindi non è cambiato aspetta Bertha aspetta 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 il giudizio non è cambiato Van Aert era da meno quattro abbondante chiaramente costa tanto non ha fatto un cazzo l'unica tappa in cui poteva essere scusato è Sassotetto perché la gente ha scritto ma anche gli altri anni faceva il grigaro e faceva punti infatti nessuno ha detto niente il problema non è un problema è che chi vince il giro abbiamo sempre tutelato i compagni di squadra sempre mi ricordo Chiatoschi recentemente o qualcuno della Ine o solo non mi ricordo questo è sempre esistito che comunque quando un corridore vince la squadra vince la squadra va a un minimo tutelata anche a livello di gioco perché vuol dire che la squadra ha funzionato però Van Aert costa troppo quindi era ovvio che andava calato la differenza tra Van Aert e Van Der Poel è semplicemente il costo dei due corridori che è diverso il prezzo è talmente alto che è talmente alto nell'economia di una squadra che se fai bene fai il tuo se fai strabene guadagni se no perdi cioè quel prezzo lì è talmente alto che te vuol dire che sei un super fenomeno che te per il fantasy fai vincere le persone che giocano capito Van Aert in questa tira non ha fatto perdere le persone ma ho capito ma infatti non è che non ha preso niente ma da far vincere te devi far vincere e arrivi a far perdere devi calare tanto capito se ti voglio dire infatti la differenza tra Pogacar e Van Aert adesso dovrebbe essere un più 5 credo a favore di Pogacar una roba del genere sono 72 a 67 quindi più 5 a fuori di Pogacar e ci stanno tutti per quello che abbiamo visto assolutamente è un millino di punti di differenza ma paradossalmente per quello che potrebbero fare per quello che potrà fare Pogacar i soldi di differenza si stanno se fa bene prende poca più se fa male prende una minus extra gigante secondo me non ha senso poi dopo io mi come sempre mi indigno alle ma è questo per avere la stessa possibilità di fare una plus come di prendere una minus ma non è così non è così non è così Berta non è così perché il gioco è stato no perché se no il gioco andrebbe sempre se parti da uno tutti ma te siccome partiti già dal massimo capito quindi partendo dal massimo cioè è ovvio che il criterio è quello lì è partiti già dal massimo infatti chiunque dica che si cambia il metodo è assurdo infatti non abbiamo mica cambiato il metodo io spero posso il metodo oggi oggi è impazzito diciamo sì è uscito fuori in questa roba ma è sempre stato detto che quest'anno abbiamo alzato i valori dei top e questo è evidente chiaramente con un rischio quello che se il top flop la minus è matematica non ma se la minus è matematica è un altro commento e direi mi fa schianto io farei ragazzi ma se avessi cambi i problemi sono quelli capito mi ha le plus mi porta a saluto le plus e il minus fa 3k e 3 plus valenza e chiuso mi importa scherzo scherzo Berta secondo me Pogacar e Roglic che ti vincono anzi Pogacar che è il secondo che costa di più che ti vince 3 tappe e ti vince tutte le maglie tranne quella è giusto che prenda lo stesso plus che Van Aert prende la stessa minus ma scusa ma allora quanto gli dovevi dare Guggenhardt 20 se fa una proporzione matematica no perché Guggenhardt non ha fatto quello che ha fatto Pogacar no ma ti dico in proporzione però quello che ha fatto Pogacar va sul lato della corsa sportiva non no Pogacar ha fatto 1000 cosa ha fatto 1150 no Pogacar ha fatto la metà dei punti a te ha fatto la proporzione costa un quarto la proporzione punti cotto ecco lì proporzione ma tu 1150 punti quando li fai in una corsa di 7 giorni Guggenhardt ha fatto la metà la proporzione io Guggenhardt ha fatto la metà dei punti di Roglic ipotesi no ipotesi è vero costa un quinto un quarto no un quarto quindi doveva avere quattro volte di più quindi doveva avere 16 più 16 vedi che l'algoritmo non funziona così verta perché se no sarebbe una follia ma mi sembra stava ragionati sta roba posso dire la mia scusami sì ma è una follia se no potremmo aumentare Guggenhardt di 20 per la tirana adriatico via se facendo così devi fare la proporzione la proporzione ti viene Guggenhardt più 16 perché è quattro volte più o meno di Roglic o almeno 12 dovresti aumentare Guggenhardt e farlo costare più di tutti di tutti quelli di classifica comunque questi discorsi qui non mi appassionano io c'è la mia idea ma è giusto ma non è un'idea è un po' una matematica è un po' una matematica con dei criteri ovvio ovvio cioè non è tanto idee personali ma le proporzioni calcolano un sistema automatizzato non voi allora innanzitutto ma non importa il sistema automatizzato è una cosa matematica aspetta è una cosa matematica che va aggiustata poi sì va bene ma l'algoritmo c'è ma come si è sempre detto è un algoritmo molto matematico chiaramente dare un valore a una gara non vuol dire semplicemente guardare la storia della gara vuol dire anche la start list della gara perché se è una start list di un certo tipo la gara ha un valore la start list è bassa la gara ha un altro tipo di valore anche proprio a livello oggettivo a parte i punti che porta un algoritmo c'è ma un algoritmo matematico come vi si è sempre detto avrebbe dato l'esempio di Gioke Narte più 15 a Gioke Narte ha un senso e meno 25 a Van Narte un esempio ma magari così lo prendo stavano uguali che Van Narte e Van Narte la valutazione soggettiva nostra per aggiustare determinati valori è fondamentale per mantenere il gioco equilibrato siamo qui per questo chiedono di Simmons effettivamente perché ho visto la minus a lui che costa pochissimo è vero che non ha fatto un cazzo però da Simmons allora i punti attesi i punti attesi sono impossibili perché ti faccio un esempio di fantacalcio Ronaldo ok gol attesi 35 ma se una giornata Ronaldo sbaglia il rigore te non lo potevi prevedere e lo vai a calare ok cioè qui è come se Roglic è primo fora e fa punti punti zero lo vai a calare quindi i punti attesi sono ipotetici cioè è chiaro che un corridore quanto costa se costa tanto può rendere guarda i punti attesi li utilizziamo per certi versi perché Kung e il Berta ora lo dirà Kung era stato proposto per essere abbassato come indicava l'algoritmo ma in che senso ha che Kung che costa 31 milioni 31 fanta milioni anche se giustamente è una gara che in cui non può non ha niente da dire non venga abbassato almeno di uno che costa 31 e non viene abbassato perché perché Kung ha la pariginizza quando l'unica gara in cui c'era una cronometro c'era una cronoscuola se c'era una cronometro individuale e poteva fare bene allora sarebbe stato cioè dipende anche dalla corsa perché cioè Van Der Poel non può essere calato perché non fa classifica a Tour de France o Kung o Kung si invece va bene perché non fa classifica a Tour de France e poi si è calato ma infatti a Scenodoro ipotizzare i punti è difficile è veramente difficile ipotizzare se quello è in condizione noi si fa una media generale su tanti fattori che abbiamo sempre detto Kung ad esempio facendovi esempio di Kung Kung qua non poteva fare nulla questa pariginizza se non quella tappa forse che hanno annullato perché era l'unica tappa forse un po' più per finire un po' più per corridori all'attacco così e basta che cazzo poteva fare questa pariginizza Kung poco o niente anche se poi è andato bene al giro di Svizzera e ha fatto classifica per l'amor del cielo però Kung qui era per aiutare Godou si sapeva da tre mesi e le gare di Kung non sono queste vedrete che se fa male la campagna del nord Kung cala picco questo è sicuro perché ci sono corridori predisposti un altro esempio non so che esempio si può fare è chiaro che la tira abbiamo un discorso no siamo chiusi su Arasman siete stati buoni ormai dai basta 10 minuti una polemica poi basta si passa un'altra cosa ti chiedono dove hai vinto le coppe che c'hai là sopra al fantasy come no ragazzi io vi saluto no aspetta 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 ci vediamo giovedì ve lo ricordo prima su bike channel 20.05 poi in live 21.30 allora aspetta questi sono i meme chi ha comprato Rogic perché aveva previsto tutto il bello è che si era detto anche per me questa era nata storta proprio ormai perché mi voglio male non hai preso incredibile no continuavo a dire che Rogic non ha mai fatto quando c'era Belli che Rogic non ha mai corso no ma perché sono un po' sono un po' disorientato continuavo a dire che Rogic non aveva mai fatto una corsa così per correre così per fare la sarebbe stata la prima volta e poi non l'ho preso perché ho detto ma non c'ho soldi invece poi vado a vedere dopo c'avevo un residuo di 44 fanta milioni sono proprio di fuori ma io ne devo fare una sola perché altrimenti cioè non riesco c'è 44 milioni fuori e Rogic non l'ho preso ma non ho preso nessuno neanche un velocista niente cioè ho lasciato 44 milioni di così a salare è un'annata storta e in più io ci metto del mio perché non riesco a gestire più cose insieme adesso fa anche il Catalunia e quindi è un corridore da prendere è un'annata storta devo fare i conti devo accettare questa cosa devo accettare questa cosa e fare un'annata così mediocre e basta punta sulle leghe fai come me le leghe però è difficile su Van Aert l'abbiamo già spiegato era un meno 4 ma il compagno di squadra venne sempre tutelato se il capitano vince il giro a tappe in questo caso quindi era un meno 4 ma è diventato un meno 3 nella lega del Berta sono secondo punto a quella quest'anno allora poi 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 ci sono altri meme sta risalendo ci fissi secondo la giuria la Tirena Adriatico effettivamente è vero ma è strano che mancassi Nerofer tra gli isolomisti la prossima attività sportiva di Votmanarte e Michelangelo Tirena Adriatico Rogic Mas Baso Madavie Zlander vince la Tirena Adriatico vuoi farmi parlare di questa lega che voglio fare me la fai fare o no tanto che non sto dietro neanche a quelle che ho neanche al campionato neanche più a niente ormai ho perso il controllo faccio le donne faccio un casino ormai proprio non ci capisco più niente sto sbaffando ovunque sei primo sono primo solo nell'asta pazza sì solo lì concordi concordi questa cosa Mulla fai dell'asta pazza che io non so come concordo sì che discorso quello lo sapete già porto cellulare porca puttana sei d'accordo con questa cosa Mulla è certo ma quello è ovvio questa è la base proprio per me non è che guarda vi metto in diretta la volevo ragionare di questa lega poi eh alla fine in teoria dovrebbe essere fattibile come in teoria io ho già pubblicato grazie si avrà superato i 6.000 iscritti sul canale youtube adesso 6.001 l'ho già pubblicizzata la lega non mi puoi dire che in teoria è fattibile no si fa cioè è fattibile ma Sanremo c'è tra sei giorni lunedì dovrebbe essere fattibile il discorso che dicevi quindi domani domani sì quindi ora in teoria poi domani subito notizie discordanti capito mi fai fare questa lega o no la posso dire ora voglio bisogna decidere voglio voglio comunque avere un suggerimento mamma mia è un disastro un appoggio dalla chat è un disastro non so se noti che hai la metà dei miei punti mamma mia ragazzi qui è un disastro non mi stanno girando corridoi io ho già due rotti perché Kerdeman mi è saltato perché se no mi arrivava quinto mi è saltato Kerdeman tra l'altro attentato di Vuzi quel maledetto maledetto devo stare dito perché se no l'offendo pesante lunedì tra 7 minuti nonostante l'anno scorso mi abbia distrutto la squadra che avevo perché ha fatto veramente pena uno schifo totale avevo pagato anche un mochi di soldi ora ora mi buttano dove sei Moulin al campionato aspetta dove sei 9.7 contro 11.840 è bello sono gli stessi punti Bertha ha recuperato 627 eh no te l'ho detto sono davanti pure io però con 44 milioni di disavanti Bertha è dato un top 100 attenzione è sto dal 5 centesimo è nata storta ormai devo accettare non mi devo fare neanche prendere ormai è così è così punterò su qualcosa cazzi ho più followers qui che su Instagram perché guardano il numero dei cambi no solo per quello Albertino Pistolero se ci sei se il collegamento te lo rifaccio è difficoltà Albertino Pistolero 502 quest'anno è difficoltà lavorosa poi aspetta se è conclusa la top aspetta io sono arrivato ottavo sono arrivato porca di quella allora Tirreno Adriatico vai esperienza non mi ricordo si vincevano tre esperienze con esperienza per il giro d'Italia se non sbaglio giusto sì una tappa in macchina una partenza e un arrivo no niente per la Sanremo lo sbaglio io mi pare di no però allora in diretta vediamo com'è andata a finire io non lo so io ottavo poi il 580 ma merda ridicolo ridicolo con Mercatone Blink allora bre pezzi ma che nome Brentos Grenadier Brentos Grenadier 2007 Italian Job Italian Job Bertaland è arrivato ottavo però mamma mia incredibile quello di ieri non era male non sapevo io che dovevo prendere Gagandard alla formazione ha vinto con Roglic Vlasov Philipsen capitano nell'ultima tappa gravissimo ci ha azzeccato ma che qua ha preso Roglic tre volte capitano tra l'altro tra l'altro Phillips l'ha preso anche nella volata ha preso quasi tutti i capitani e ha vinto capace per i capitani per quanto ha vinto no ha vinto parecchio ha vinto di parecchio aveva 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 poi Almeida Land Arendsman Ciccone Gigenhardt fortunato ha preso Arendsman che flop totale e fortunato flop fortunato è stata la goccia vincente la Ciccogina sull'altro no vabbè Gigenhardt che non ce l'ha nessuno io lo volevo prendere però non mi comunque lui ha vinto ti confermo che ha vinto la Drive Experience per una tappa al giro bello bello allora Brenton sgranadia poi ti contatteremo noi con la mail mentre la Coppa Italia che sta andando avanti di bike Coppa Italia e Sud Boy ho perso un bordello di posizioni lo recuperate Coppa Italia come ne siamo come si è messo 47esimo e non so il cammino al suo dietro io quando sono costretto a fare la formazione non a lunga cittata è una merda io perché ho 47esimo perché ho provato a fare la formazione la formazione c'avevo Gaviria che cazzo ho preso dai da Enese Kedeman ha avuto merda o Kedeman aspetta Fimo Kedeman non è che ha avuto merda Kedeman è stato buttato giù è stato buttato giù da Wutz e nessuno tutti ieri è stato distratto gli è andato lì l'ha toccato col gomito gli ha tagliato la strada e l'ha buttato in terra poi c'è la niente anche qui sono davanti la FEMS sono 203esimo qui sono davanti non vedo più la squadra Marucci Marucci è ottavo o nono mi sembra ha perso aspetta no è andato giù è J-Wiz B 18esimo di Farlato faccio le formazioni quasi completamente a caso no ma io allora ho fatto la formazione seguendo sono andato su un sito per seguire le favorite io sono andato a comprare le favorite quelle 2-3 e mi sono accolto che 2 non gareggiavano quindi ho fatto gli scambi per niente gli scambi infiniti no no infatti ho chiarito una formazione e mi correva un 2-3 meno perché ho sbagliato ho sdato peso ho sdato peso nella Lega FEMS 46esimo ma tra l'altro centesimo sia la strada bianca che la van drenthe sono perfetto perfetto poi cosa c'è questa è l'altra Lega Fantasaki League già fatta vedere vabbò nulla queste sono ragazzi buonanotte Lega no le quote ma le quote no giovedì 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 si parla di quote ricordati gli improbabili per la Sarvena qualcosa mi ho detto attenzione che Gale è in ripresa Gale è in ripresa 16esimo ciao a tutti buonanotte ciao Lore no ma è andato a dormire così facilmente stasera parla della Lega vai non è che parla della Lega non è che la voglio presentare così no presentiamola come allora c'è ancora un problema Bert c'è ancora un problema così come dovete assistere allora questa Lega sarà voglio lanciare questa Lega sempre riservata alla Lega che già partecipano alla Lega degli abbonati quindi è uno spin off diciamo è uno spin off la Lega dei poveri la Lega dei poveri praticamente non è impegnativa quindi tranquilla non è che vi impegnerà più di tanto durante l'anno perché l'idea è di fare semplicemente le 5 monumento con allora l'idea iniziale era 30 fantamilioni però ora ci ho ripensato e mi sembrano ancora troppi per questo motivo qui perché ho calcolato che uno ci può compare comunque dei lì o corte se qualcuno di questo genere qui perché se ne metti 8 da 1 punti su un corridore invece forse è meglio sarebbe meglio forse 25 che dite non lo so facciamo un ragionamento quindi il sondaggio 25 o 30 o 25 o 30 perché cioè te con 30 fantamilioni ce lo compri dei lì più altri 8 da 1 milione quindi non vale ci punti su fa 25 una via di mezzo tra 20 e 30 ci sta cioè nel senso te comunque lì puoi puntare e la media del corridore quanto lo fa pagare 9 18 la media deve essere proprio improbabile invece Bertha te che li fai delì è un improbabile no assolutamente no quindi comprando delì o corte mettiamo non è proprio un improbabile no no il massimo e deve essere tipo 16 facciamo no secondo me devi mettere una media di prezzo del corridore se te tutti i corridori le vuoi a due ipotetici fai 9x2 fa 18 fantamilioni totali se invece fa una media a 3 17 non conta la media perché te ma in generale ti devi puntare su quello che punti magari perché la gente magari punta su uno e poi il peggio giù di da uno no 25 puoi permetterti uno da 17 massimo 18 no di no a 25 si eh si 25 si 17 18 pigli po sinceramente 18 più 8 no numero 9 una squadra una squadra però va fatta con i rimasugli proprio cioè è quella l'idea quella lì e quindi solo con le monumenti quindi vincerà e prende sempre quelli da 3 4 il microfono Mulla il microfono tenato giù chi fa magari 50 punti ha vinto capito è una cosa del genere la lega dei poveri la lanciamo ufficialmente domani massimo domani l'altro uscirà la lega dei poveri la lega dei poveri si chiama allora non si vince niente solo la gloria ovviamente è solo per quelli che fanno già quella lega e chiaramente è solo per gli abbonati del canale youtube e twitch che già fanno la lega dove si vincerà un iphone è un qualcosa si solo 5 gare e lì quella lega lì chi è primo quella lega del Mulla degli abbonati non lo so non lo so te lo dico eh dimmelo eh sospetta questa è una lega parallela una follia totale del Mulla che la notte non dorme e pensa a queste cose me l'ha detto in macchina mentre si andava la tirera di rialzo però c'è una c'è una ok c'è una critica di Davide Cesaroni Davide Cesaroni ha fatto una critica giusta eh ho capito ma è becca come si fa il becca no lo so però dice diventa una lotteria però aspetta Mulla con i punteggi abbassati e col fatto che nelle monumento non ci sono traguardi volanti e non ci sono punti com i punti fuga sono veramente pochi oppure si possono levare i punti fuga si possono levare i punti fuga certo Samuel ha trovato subito la soluzione levare i punti fuga quindi solo l'ordine d'arrivo l'ordine d'arrivo se uno arriva o non arriva cioè se si ritira per esempio e già prendi cioè prendi 5 cioè è già grossi è già importante quindi l'obiettivo è fa 90 punti almeno ma magari uno si fa a piazza quindicesimo ventesimo ventesimo si 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 leva i punti fuga si si va bene allora domani massimo per gli abbonati youtube quindi 25 20 milioni che dite ragazzi decidiamo 25 può andare bene 25 meno 8 fa 17 no quindi al massimo uno può prendere uno da 17 e poi 8 da 1 si in teoria si o ancora meno che dite che dite eh anche questo non è male prendi tutti i compagni di Pogaccia bonus compagni di squadra no si leva tutto si leva tutto si può levare anche lui qualche punteggio non lo puoi levare qual è che non si possono levare facciamo un conto bonus compagni di squadra è nel calcolo della generale non lo puoi levare nel Tour de France ipotetico puoi levare i punti live i punti live sono i punti fuga i com i traguardi volanti solo l'ordine d'arrivo conta e poi il calcolo generale però nel calcolo generale c'è tante robe come le maglie compagni di squadra no le maglie le puoi levare eh non mi ricordo aspetta si perché quando fai i capitani tipo ditemi cosa cosa non si può allevare allora bonus capitano è quello il capitano di giornata bonus maglie sono le maglie in fondo quando schiari la formazione bonus partecipazione sono i 10 punti bonus team e bonus compagno di squadra si lo puoi levare ho detto una cazzata si lo puoi levare si può levare tutto infatti si può levare tutto ordine d'arrivo no ma anche il malus ritiro vuole levare no il malus ritiro no ritiro no è importante il bonus partecipazione devi lasciare il bonus partecipazione e il malus ritiro questi due devi lasciare sì quello sì è importante cazzo è arrivato in fondo cioè voglio dire è già un miracolo è Lega dei Poveri chiaramente se un corridore ti arriva un po' quindi con due bonus attivi e basta il malus e il bonus partecipazione ok 25 siamo sicuri o 20 25 ci stacca ecco che l'anno l'anno scorso Pichon ha fatto ottava la Parigi Lovecco stava a due no lo so il problema del prezzo è che comunque chi c'è da 17 fattibile cioè non devi prendere l'idea è di non far puntare la gente su di uno e basta capito perché sennò diventa brutto ogni tutto puntano su una persona allora metti 20 e verrai che ti togli il dubbio no ma a 17 io farei 20 io farei 20 ho deciso ho deciso ora perché non voglio rischiare che qualcuno punti su qualche personaggio famoso devono essere rimasori sennò che poveri è scusa 20 20 al massimo 12 si punta allora a 17 mullà te lo dico guarda a 17 no a 17 c'è Fuzzang è un dato guarda questo è indicato che Fuzzang costa guarda Davide Davide che dice prendo Turgic che costa 15 quindi devi calare ancora calare e allora 20 allora bisogna mettiamo così 20 al massimo può comprare uno da 11 no uno da 12 voglio che nessuno compri qualcuno che costa più di 10 allora fai fai 10 più 8 18 18 no più di 10 cioè meno 17 anche un numero porta merda quindi massimo 9 uno che costa 9 la lega degli sfigati meno di 10 il tuo capitano se proprio lo vuoi prendere deve essere uno che costa 9 senti a 9 c'è Campena Jorgensen c'era Verona Verona Rota 8 Nasen Oliver Nasen 9 Cavagnà 9 Eduard Teunzo 8 Sobrero 9 Quentin Cacher 9 Kruzvik 9 no no la lega dei poveri è 17 giusto come budget sì sì è un numero perfetto ok 17 fantamilioni no la lega non sarà aperta a tutti sarà aperta solo agli abbonati di youtube e twitch dicono che magari ci saranno tanti corridori a 1 fanno ridere pace ritiri una questione di ritiri poi anche chi fa meno ritiri non ci costringere a quelli a 1 dicono vabbè mettiamo 20 mettiamo 20 ragazzi 20 no 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 17 17 17 dai perché non li vogliono prendere tutti per lì a 1 magari non li prendono prendono gente da 2 non ce la puoi fare ah è vero non ce la puoi fare no io metterei 18 perché almeno tutti da 2 tutti da 2 le devi permettere 9 per 2 no 20 dai 20 dai 20 mettiamo 20 se era partito da 30 siamo arrivati a 20 vabbè però a quelle plus valenza come fai che ne so bisogna fare sempre da capo è infattibile chi si becca la plus valenza se la tiene esatto bravo lui vabbè è bravo chi si becca la plus valenza quando prendi veramente la feccia compri magari uno da 12 si è vero è difficile se si becca la plus valenza che cazzo è sua si vabbè infatti è giusto 20 fantamioni avessero scommesso su Schelmos la prendevano 20 fantamioni comunque è giusto dai ci può stare la via di mezzo io avrei fatto 17 che mi piaceva si lo so però non vogliono prendere tutti a 1 perché magari mettiamo un 20 cioè sarei partiti da 30 poi siamo andati a 25 ora siamo arrivati a 20 cioè abbiamo calato abbastanza siamo proprio poveri diciamo sì cioè è una lega dei poveri davvero 20 fantamioni per i 9 corridori è una media di 2 e qualcosa la fecciola la fecciola comunque dimmelo quando posso farla la faccio levo tutti i bonus ordine d'arrivo e ritiri bonus partecipazione partecipazione e ritiro cioè quello e ordine d'arrivo 20 fantamioni se uno va sotto 9 si sbaglia consecutivamente il plus valenza e scende tipo è fuori è fuori è fuori devi tenere devi tenere il corridore che ha però non la puoi schierare la formazione non puoi schierare la formazione come come no si chiara la formazione con quel corridore devi lasciarne uno lì a caso di quelli che no perché allora se te prendi tipo non so vai a comprare sempre quel corridore costa 11 e becchino minus valenza poi quello costa 10 e becchino minus valenza prendi 15 minus valenza di fila puoi andare anche a 8 fantamioni totali però quando tu fai un tu sai i corridori 9 corridori per comprarne degli altri devi fare uno scambio sì chiaramente rimarrà sempre con la solita formazione finché non fanno la più valenza e c'è una valenza comunque se io vado a meno uno io ho tutto ho un budget e vado che dici vado uno aspetta aspetta io ho 20 fantamioni aspetta io becco 12 minus valenze consecutive perché magari punto sul cavallo sbagliato lo so che è possibile infatti sarebbe un episodio paradossale però Schelmose con questa manovra è stata abbassata quindi mai dire mai perché è stata una mezza truffa no giustamente perché se ci fosse stata la lega dei poveri sarebbe stata giusta questa cosa perché tutti puntavano su Schelmose Schelmose morale della favola se uno arriva a Vecci la rosa monumento monumento solo cinque monumento oppure si fa anche i grandi G no perché i grandi G è impossibile perché nessuno si piazza nei 15 se volete fare anche i grandi G si fa anche i grandi G però è difficile cioè chi è che si per me si può fare e ora domani verranno riaperti gli scambi nella Lega Coppa Italia devo risettare le formazioni con il programmatore si può fare anche i grandi G non voglio dire si può fare anche i grandi G oppure come quella classifica lì i grandi G monumento mondiali e olimpiadi che non ci sono olimpiadi quest'anno quindi no mondiali tipo mondiali grandi G monumento quindi sarebbero cinque più tre otto più i mondiali nove nove gare esatto comunque non puoi andare sotto come fai andare sotto nove non dicono si fanno queste nove gare vai va bene che dici si mondiali grandi G mondiali monumento grandi G mondiali è un outsider nove corse dai nove corse nove corse nove corse nove corse nove corse ventifantameioni monumento grandi giri e il mondiale punto ma e lo comprerai in questa lega Sosa? no le conti dai le gare che contano cinque monumento tre grandi giri il mondiale dai come quella che si fia va bene va bene è stato approvato ok allora ricapitoliamo ricapitoliamo ventifantamilioni nove ventifantamilioni nove corridori nove corse cinque monumento e tre grandi giri il mondiale via tutti i bonus tranne bonus partecipazione e la bonus ritiro e il malus ritiro si ok dicono che puoi spendere cinque venturini cinque fantaventurini il codice dove si mette lo posso mettere poi quando c'è il codice nella chat della lega che almeno si fa prima lo mette anche su Instagram magari anche lì sopra si si lo potete mettere lo mette lì nella chat degli abbonati poi chiunque se sia abbonato lo può mettere anche su Instagram tante volte si abbonerà su Instagram è per tutti è vero hai ragione ma sono tutti pensiamo sì quindi sulla chat lì quindi chi non guarda la chat lo metto magari più volte capito perché magari uno se la perde capito la bavaria o si perde questo questo informazioni che stiamo dando ora lo metterò più volte però se mi devi dare attenzione attenzione che subito questa lega ha creato Matteo Capiluppi subito la lega dei poveri incredibile che poi andrebbe vista anche su Twitch se qualcuno si sta abbonando al canale attenzione che François partirà a eliminare gli account a breve per chi non rinnova quindi attenzione ha ragione Luca Bandini ma d'altra parte è un sacrificio che bisogna fare nel senso è vero ha ragione ha ragione ha ragione cioè se guardo l'affermazione in sé per sé no 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 la maglia com se uno la vince la prendi la prendi no i punteggi lì le prendi attenzione e puoi levare il bonus che dà nella formazione in basso sì infatti no la prendi comunque perché fa parte della classifica generale quindi sì 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 quella la prendi questa sì che è una lega no no non puoi prendere i bonus extra quelli che te questa sì è una lega eccetera ma che diventi una lega di ricchi è dura perché in un attimo una lega di ricchi questo è un esperimento perché il prossimo anno la lega del Moulat potrebbe anche essere questa potrebbe essere diciamo ridimensionata ridimensionata con pochi 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 soldi perché siccome siamo partiti da una playstation 5 ora diamo un iphone pro eccetera eccetera e altri premi intermedi come le magliettine per i trofei interni se il prossimo anno siete ancora in tanti perché quest'anno siamo stati più di 100 abbonati si alza il livello se si arriva c'è 50 e si alza il livello e la lega deve essere per forza più difficile sì difficilissima non di più c'è qualcuno che mi dice Lucon dalla regia che c'è McNulty con dei punti in più però guarda Fede voglio provare come non è solo dove c'è qualcuno che ha detto che McNulty ha dei punti in più è in testa dove ha punti in più dove ha punti in più dove ha punti in più dove ha preso non è così ma ha detto Lucon chiaramente Matteo che si è comunque abbonato ora facciamolo entrare anche nella lega anche nella lega abbonato era lì facciamo così ragazzi chi è che degli abbonati che in live ora vuol venire a parlare 10 minuti in live esatto chi è che vuole entrare facciamolo venire anche lui comunque tanto anche nella lega lì non importa la classifica finale che a parte vince uno vanno bene anche i trofei ripetiamo che nella lega discepoli comunque vengono premiati tutti i trofei e quindi Matteo sei diventato un discepolo del Moulin quindi hai diritto anche volendo a entrare in live quindi Matteo che sei il nuovo abbonato vuoi entrare in live vuoi parlare il tuo adepto Moulin vediamo un po' cosa risponde o chiunque altro abbia voglia di entrare insomma un abbonato se siete un paio va bene uguali giusto in chiusura per fare duchiacchi il reno e pariginezza no e su McNulty non so cosa devo guardare non ho capito eh provo a guardare se tornano i punti i punti che ha fatto i punti calcolati eh non lo so ma scusi mi ha scritto Lucon io ne so quanto d'è sto qui che parlo con te eh McNulty 178 punti ha fatto eh torna ha preso il bonus compagno di squadra di eh il bonus compagno di squadra eh perché innanzitutto fammi eh fammi aspetta aspetta vediamo un po' cosa è successo su McNulty perché c'è qualcosa intorno allora tirene adriatico classifica generale vediamo un po' McNulty McNulty è arrivato dodicesimo in classifica generale e secondo nella maglia giovani si tornano punti eh e quinto nella prima tappa decimo alla si tornano punti via via dai Matteo e Davide via Ale mandiamogli vai allora scrivete alla mail noi di fantasycling chiocciolagmail.com che vi giro il link noi di fantasycling chiocciolagmail.com e vi giro il link ragazzi allora andiamo sulla mail quindi ragazzi eh perlomeno si fa si chiude il cerchio su queste gare di una settimana in ottica poi anche le gare di settimana Milano-Torino e Milano-Sanremo quindi l'abbiamo pensato il problema è che noi facciamo live da due a tre ore e dovrebbe esserci un montaggio di un ore cioè il podcast è ascoltabile se va dalla mezz'ora a un'ora le live sono troppo lunghe ragazzi eh no anche perché non ci si vede cioè bisognerebbe fare un riassunto però potremmo sì potremmo mettere come podcast la puntata di bike che è 25 minuti quello potrebbe andare bene il podcast deve essere una roba un po' più short capito pre-registrata magari non live perché live magari escano fuori anche anche delle cose extra che sono difficilmente capibili da dal pubblico sì che ascolta un podcast ma il podcast ha un'interazione col pubblico diversa da quella che è una live però sì ci abbiamo pensato comunque mandatemi l'email a noi di fantasacchi in chiocciolacimail punto com e appena la ricevo vi giro il link ragazzi comunque sta lega qui sta avendo successo 45 minuti qual è questa lega? quale lega? la lega dei poveri la lega dei poveri? ma te lo so lo so perché siamo tutti poveri fondamentalmente in un certo senso allora in un modo chi nell'altro sono tutti poveri chi entra in live? Matteo le ho risposto ora Davide scrivimi anche te perché perché se mi stai scrivendo su social ho il cellulare spento quindi mandami l'email se vuoi entrare Davide poi ragazzi richiamiamo anche qualche senatore ogni tanto tipo Albertino Pistoleo Sputti che a parte non so se Potti chissà dov'è però anche Sputti Baba Yaga Simone Baccani Baccani ha visto stasera si è incazzato ha ragione ha ragione perché te lo dio come si è incazzato? perché me lo sono perso? perché vuole la caricatura è giusto è giusto ah perché hai visto l'arrivato dopo che te li ha calcolare la caricatura giustamente se ne ragionava l'altro giorno a Folloni Cabello che gli facevo pressioni psicologiche pressioni psicologiche come Pogaccia a Vinga che non è vero però ok il magro è pesantemente sostenitore di Pogaccia e va bene ci sta ci sta però non può non negare che sia proprio una guerra di nervi tra i due secondo me forse è più Pogaccia che va a cercare Vinga che non l'opposto sì su questo è l'unica cosa su cui devo dire la verità anche io sono d'accordo anche io stengo stasso via non ero d'accordo con quello che diceva poche cose pochissime però quella lì io lo dissi subito che secondo me lui è rimasto scottato dall'anno scorso dal Pertur dal Granon e poi nemmeno il Tour da un dal Granon però scusai Mulla il mondo diceva una tappa in realtà sono state due perché anche la tappa di Lourdes da Cam ragazzi abbiamo Matteo però non ha perso l'ha staccato poco però poi è andato lì dopo il Granon ha dovuto cambiare non cambiare ha dovuto attaccare al posto che difendersi però ragazzi all'urdo da Cam quando vuoi ciao Matteo però prima nella salita prima ha dovuto attaccare era cambiata la situazione ascolta non diciamo stronzola ascolta non diciamo Pogaccio nella salita prima ha fatto uno scattino cioè Neck ha attaccato lui ha attaccato in discesa e cascato sì secondo me ne aveva di più però grazie l'anno scorso dal Granon in poi è dimostrato da vendere più poi possiamo dire tutto che magari è andato evidente ragazzi stavo guardando la televisione poi anch'io mi piace il Belcichismo mi piace Pogaccio mi piace Ving lo facciamo tutti però è andato effettivo no ma non mi piace il modo in cui ha vinto a tirano di altri non è che mi fa cagare Rogic che ha vinto troppo facilmente Matteo ciao ciao si sente si sente si sente come hai scoperto Fantasaki come mai sei entrato in questa malattia ma io sono entrato all'inizio proprio appena appena iniziato non so bene come il primo anno è andato benissimo poi un disastro benissimo cosa intendi per benissimo ma ho beccato tante cose c'era Van Hart che veniva dall'infortunio quindi l'avevano in pochi avevi intorno a Strade Bianche a te giocavi il campionato o fai le leghe con qualche amico all'inizio solo campionato poi ho fatto una lega ma ho solo due amici appassionati quindi facciamo una lega un po' strana tra di noi tre e basta poi adesso gioco quelle quelle saltuarie quindi l'esperienza coppa Italia esatto esatto sì ma così femminile cosa? femminile sì sì molto bene la Strade Bianche molto male questa perché alla fine mi sono presentato in sette quindi siamo due capitano ho messo Bastianelli che mi piaceva aveva vinto una gara poi non so come è arrivata se è arrivata è male ma perché in sette erano poche io forse ce ne ho ancora meno no nel senso erano era una tragedia sette no è che facendo la squadra pensavo almeno di coprire le prime due o tre gare invece neanche quelle eh non è facile per le donne invece io ho fatto la prima squadra iniziale completamente a caso e quindi devo fare i cambi praticamente totali globali a ogni corsa ho sbagliato proprio un ceppisco niente eh poi sia sul femminile che sul coppa Italia no qual è il no in pietra faccio anche pietra è difficile capire gli scambi totali che sei abitato al campionato che ti gestisci su te ne arriva uno sì lì ma avete fatto una lega con pochi scambi mi ricordo mi ha detto Stefano che avete fatto una lega con pochi scambi mi sembra molto molto difficile ecco non è banale la lega di pietra no? 60 totali però ci sono tante gare eh però ci sono tante gare visto oltre alle world tour ci sono forse c'è qualche world tour in meno ma ci sono tante pro series sì tante gare di un giorno lì non è non è banale non è banale eh allora ma come l'hai vista la Tirreno e la Nizza un giudizio così random pro e contro delle due gare se ci sono dei pro e dei contro dal tuo punto di vista ma la Tirreno secondo me sta molto falsata dalla gara col vento cioè al di là dei chilometri in meno io penso che un mass ne avesse di più di qualche corridore tipo Camna che è arrivato quarto però quella gara lì ha un po' ha un po' limitato ciao ragazzi diciamo ciao Davide ciao Davide e poi poi c'è poco altro non aveva un percorso magari fantastico però no è stata gradevole da vedere poi mi piace più che guardare la Nizza in generale come sei rimasto deluso però che nelle due tappe soprattutto quella dei muri Pidcock Van der Poel e Van Aert praticamente hanno fatto le ombre di loro stessi sono loro su Van Aert non sono così cattivo nel senso che comunque ha lavorato sempre anche oggi ha tenuto Roglic lì davanti fino ai tre chilometri ha sempre lavorato Van Aert Van der Poel pensavo che una tappa la mettesse nel col cerchio rosso però ragazzi ragazzi ricordatevi il 2021 sì che battaglia fra la Filippe anche Van der Poel sono veramente mancati completamente la tappa dei muri è stata una delusione io mi aspettavo ma non solo quella sono completamente mancati è stata cioè erano in start list creava un'aspettativa ma poi erano dei fantasmi quindi eri sempre deluso chiaramente ogni giorno e invece Matteo sulla Nizza un pro e un contro poi lo chiede anche a Davide a livello di fantasiclismo o Martinez che l'ho preso e ha fatto schifo a livello di di corsa no mi è piaciuto cioè mi piace come come corre Pogaccia è piacevole mi ha stupito Godù che l'ho preso in una lega ce l'avevo e secondo me sì sta crescendo tanto rispetto negli ultimi tre anni comunque ogni anno cresce molto quattro anni fa ero un ciclista da poco te Matteo sei del partito sì Godù sì infatti sei del partito Matteo di quelli che dicono che Pogaccia sta stancando per quanto vince e come vince o di quelli che gode ogni volta che Pogaccia vince a me piace tanto sono dell'idea che non sia cioè è molto più coriore più potente che scalatore non è uno scalatore puro perché comunque anche oggi ha vinto cioè sul passo non sulla sull'attacco in salita o è un corridore che ti può far divertire da marzo a ottobre l'anno scorso ero sul Carpegna quest'anno e poi sono andato anche a vedere Lombardia ed era lì sempre Matteo sei di Bologna cosa? sei di Bologna Reggio Emilia ah Reggio Emilia sentivo un accento familiare Davide invece te pro e contro Parigi e Tirreno no lui l'ha visto vicino Davide allora Davide era io la Tirreno me la son goduta molto cioè lì allora lì a a Sassotetto sono andato su è stato bello vederli vederli comunque sia non mollare tirare forte su Caruso ho goduto perché ci ha provato e dopo lì era impossibile era veramente impossibile ragazzi io ho fatto veramente era veramente impossibile fare la differenza c'erano proprio possibilità io avevo paura che veramente la salita la tagliassero proprio perché era impossibile erano 5 gradi io avevo io mi ero stracoperto avevo le mani congelate stavo facendo il video col telefonino non riuscivo a fare il video non è un problema nostro non è un problema nostro no lo so no sto dicendo comunque a parte i gradi ma qual era il problema reale c'era tanto vento contro ma no c'era un vento è una tempesta cioè io io facevo i video parlavo mi risentivo il video non riuscivo a riascoltarmi era impossibile cioè era veramente cioè io faccio io alcuni ragazzi hanno hanno provato a fare la salita prima dei professionisti in curva cadevano vabbè che loro non avevano così tanta potenza nelle gambe ma era veramente impossibile io mi sono meravigliato poi che finita la salita sono scesi alla base della salita dove c'erano i pullman erano congelati un freddo bestia io mi sono mi sono stupito il giorno dopo che all'inizio non ho visto nessun nessun dns che tutti sono partiti che nessuno si è ammalato cioè io sono andato ai pullman poi di sotto e i corridori prendevano il tè caldo a fine tappa io mi sono preso la borraccia di Aresman che c'era scritto sopra tè che ne ha bevuto una metà l'ha lasciato lì ho preso la borraccia che era lì poi da dopo da dopo quella borraccia lì ha fatto cagare anche te e il giorno dopo il giorno dopo la tappa dei muri è stata spettacolare però Davide Davide allora diciamo la verità hai ragione capisco tutto no no vabbè io sono d'accordo con quello che ho visto è vero è vero è verissimo sono d'accordo con tutto il vento il freddo il percorso non bellissimo va bene sempre colpa degli organizzatori no 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 ma guarda ti dico capisco capisco bene no capisco bene il percorso non bellissimo la salita non era abbastanza quello e quell'altro no c'è sempre le critiche volendo si fanno e si continuano a fare continuamente con certi corridori e non faccio il nome faccio cioè potrei farli anche sti nomi con certi corridori te da organizzatore ti puoi inventare i percorsi che ti pare puoi trovare le condizioni meteo che ti pare avrai sempre e sempre una corsa lo stesso atteggiamento lo stesso atteggiamento perché ci sono dei corridori che non hanno sono dei perdenti sono dei perdenti non è che questo discorso lo puoi fare per la tappa di ieri non è che sono dei perdenti non è che voglio dire che non hanno la gamma che sono scarsi come corridori sono proprio dei perdenti cioè sono dei corridori anonimi è vero verissimo ma è sempre anche per quelli se cambiavi il percorso sarebbe stato lo stesso sono dei corridori chiesti come si diceva noi diciamo le verità come si diceva noi nelle chat no te lo puoi dire la verità no io la dico no io la dico questi corridori qui non me ne frega niente mi denuncia non me ne frega niente faccio smetto capito allora ci sono tanti corridori tanti tanti corridoi non pochi tanti forse anche come dicevo prima perché ci siamo abituati troppo bene con alcuni che fanno sempre quello è fatto un bel discorso sono d'accordo esatto forse ci siamo abituati troppo bene ma io mi ricordo anche in passato c'erano ci sono tanti corridori oggi che i dir anche di una volta non ci stanno più ma oltre che guardare i computer magari lui era scarso però come atteggiamento cioè allora che guardano magari i dati il resto e fanno tanti piazzamenti portano tanti punti UCI ma sono dei perdenti perché l'idea di vincere di provare a vincere e perdere non gli passa neanche per la testa sono dei corridori che sono prudenti un corridore prudente è il male del ciclismo perché è quello che tu ho detto io prima la domanda che ho fatto prima io al magro sul fatto che uno prima di rischiare di vincere pensa prima a non perdere ma io dico una cosa Davide io ti do ragione il tempo era nefasto quindi Caruso è un pazzo no 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 aspetta Caruso è un pazzo è un folle che ha fatto attaccare è uno normale bravo aspetta no non è normale è uno che ha le palle come ho detto anche in chat normale è uno che si attaccava a 500 metri dopo no era uno che non puntava la classifica diciamo anche quello no però era come tutto in classifica perché prima di Sassotetto la classifica era molto corta cioè non è che Caruso arrivava con 40 secondi forse non se la sentiva nelle gambe lui la classifica ha detto prova a vincere la tappa ma gli altri non lo sapevano però ha detto questo se attaccava 500 metri dopo la tappa la vinceva perché lui è stato ripreso a 7% guarda eh ma il vento il vento sotto ce n'era meno più salivi e peggio era quindi quando arrivavi su c'era ancora più vento perché si apriva il cielo perché lì era tutta una verticale con tutti i tornanti e quando arrivavi sopra praticamente i tornanti finivano e c'era tutto un lungo rettilineo con poche semicurve e lì era terribile quindi se magari anche prendevi 30 secondi prima e poi era difficile mantenerli perché poi stare in gruppo faceva comodo e la comodità dello stare in gruppo è stato quello la comodità dove ce l'ho anche a cassa sul divano che disegno no comodità perché sono un fallese no non me ci trovo non è quello il punto ma io non è che noi facciamo siamo bravi a commentare da qui siamo dentro casa no non fa questo discurso non fa questo discurso perché non l'accetto mai io commento cosa mi pare perché io guardo pago abbonamento a Eurosport pago abbonamento pago qui il microfono vedere il ciclismo e poi il microfono non è quello il punto non è che io dal divano non posso commentare io dal divano posso commentare tutto perché io pago se lo decidiamo non lo voglio vedere non l'ha aspetta aspetta premesso che noi si parla sempre premesso che noi parliamo sempre dal divano dalla poltrona chi come me magari fa il ciclomatore chi come Mulan non lo fa però parliamo più o meno ci capiamo qualcosa e si parla e si dà di giudizio ma non c'è da capirci è una questione di tifo di divertimento non è capirci io ho fatto un esempio non c'era la pioggia non c'era il freddo però se noi prendiamo Pantani ok è un grande vabbè lasciamo perdere però io ti prendo due tappe no Davide una con freddo della madonna una bufera e un'altra con vento contro omicidiale una è la tappa del Montbattu del 2000 e una è la tappa del Galibier due tempi allora sul Montbattu nel 2000 non misero neanche i cartelli dell'arrivo il vento le buttava giù cosa che mi sembra che invece i cartelli c'era una tiglia dell'arrivo quindi tutto sto gran vento rispetto alla tappa del Vantù sicuramente non c'era sarà stato un vento forte come c'era nel Vantù nel 2000 Pantani era un gruppettino il Pantani era un gruppettino di 6-7 corridori e la gente mi ha detto eh c'era Armstrong erano tutti dopati va bene erano tutti dopati ma come ha detto il magro prima ironicamente siamo tutti dopati ma siamo tutti più o meno a darmi pari ok quindi se uno fa la differenza anche questa non è del tutto vero era parzialmente non erano tutti come Armstrong perché Armstrong che se no non aveva vinto mai 7 tour nella sua vita mai infatti abbiamo glissato lì va bene se si pregava non lo so quale divinità era un antociclismo è vero era un antociclismo però lasciamo perdere Armstrong però più o meno tutti i corridori doping non doping erano nelle solite condizioni sia l'altro giorno che nel 2000 nel 2000 un gruppetto di 7-8 persone quando sono arrivati contro vento negli ultimi 4 km sono arrivati alla spicciolata alla spicciolata perché se riesci a fare un po' di selezione il vento contro ce l'hanno tutti ma se te ti aggiusti e stai tutti insieme in gruppo e fa tutti comodo come ha detto te e non succede nulla se invece si inizia a fare la gara a cattivo si inizia a fare la gara a cattivo vai Bertha a un certo punto ha ripreso Caruso erano in 3 o 4 lì hanno sbagliato che non hanno girato per andare loro 4 lì sì che hanno fatto rientrare Roglic è stato l'errore se te sei Mass e punti a vincere se ti giri hai Ciccone a ruota ma continuo ad andare fai altri 50 metri a Ciccone gli interessava vince la tappa non si sapeva l'avrebbe dato un cambio due al massimo perché lì hanno sbagliato Mass il carisma di Mass vale zero perché come ha fatto alla vuelta l'anno scorso lui fa uno scattino si gira vede che non riesce a essere solo perché ovviamente gli scatti di Mass non sono questi scatti fantascientifici non è che stacca tutti vabbè ci ricordiamo il Giro dell'Emilia solo l'anno scorso che Mass è stato l'immemorabile proprio che poi solo il Giro dell'Emilia neanche l'abbia visto perché eravamo a raduno e ce lo siamo persi appunto guarda caso dobbiamo fare un altro raduno per far vincere Mass in generale Mass quando scatta non è che fa ogni raduno scatta se non al Giro dell'Emilia è vero Mass ma a prescine che fa differenza o meno se lui scatta e si gira e c'è qualcuno a ruota smette finisce si mette di lato e non fa più nulla e anche a Lombardia ci ha provato però alla fine dico un po' Gaccia Mass ma a Lombardia lo posso anche capire tanto Pogaccia non lo stacchi Pogaccia non lo stacchi però secondo me lì più che Mass Mass comunque aveva fatto un bello scatto cioè e anche non fortissimo lì secondo me hanno sbagliato gli altri e non dargli neanche un cambio secondo me ma ora Simo un chilometro e mezzo davanti Mass ora si deve riguardare la tappa un chilometro e mezzo ma neanche 50 metri secondo me hanno capito hanno capito tutti di essere più o meno allo stesso livello e speravano di portare a casa quelle e poi giocassela magari bravo nessuno quindi bene o male erano tutti lì e se si mettevano tutti all'aria la tappa del vento forse uno prendeva un minuto uno prendeva due e non rientravano più in classifica allora Roglic l'aveva presi 7-8 secondi quando Mass è partito però si sono fermati con Kedema lui a ruota ha risparmiato poi è arrivato in volata e l'ha castigati tutti e purtroppo se ti porti in carrozza un gruppo di 20 persone ci porti Roglic non ci si poteva aspettare niente da Roglic però non sapeva neanche com'era la sua condizione non ne ha fatto una mezza gara niente cioè Roglic ha fatto quello che doveva fare cioè ma se insomma è il suo però l'hanno portato ha fatto un suo ascoltate ma ragazzi ma io mi chiedo coraggio appunto ma guarda io non ti chiedo le prestazioni perché Pogaccio ce n'è uno e c'erano i fenomeni ce ne sono pochi non è quello il punto guarda io di quelli di classifica di quelli di classifica mi sono più meravigliato nella tappa di ieri che l'ho visti più di una volta a fare gli strappi lì dove c'era il pavè che ero lì e lì quelli di classifica ho visto ho 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 visto bene Buitrago che ci ha provato bene Blasov che comunque ci ha provato perché lì ci ha provato con coraggio perché lì ci voleva delle gambe di ferro Blasov ha fatto un'azione da Plasov infatti Blasov se avesse dato la minus anche se non ce l'ho non ero non ero d'accordo anche se è arrivato nono perché ha avuto più coraggio di gente che è arrivato sesto o settimo però Davide c'è da dire che Blasov ci ha provato perché aveva Camna in classifica se fosse stato l'unico di classifica della Borra non si muoveva può darsi non lo so allora provaci Camna allora provaci Camna e Blasov stai a ruota che sei un po' più lì invece è assolutamente vero Camna è un attaccante e non ci provi per provarci infatti doveva andare a Camna avanti eh sono d'accordo bravo sono d'accordo anche perché Camna ha visto un quarto posto in discesa recuperi e qui si torna a discorso Camna ha visto un quarto posto alla Tireno e per lui capito a lui sicuramente probabilmente gli ha detto anche di no capito se voglio dire va Blasov perché tanto era un po' più indietro eccetera ma infatti il problema il problema ora il mullà è stato categorico mettendo una categoria di corridori però il problema il problema è che quando te sei contento di giocarti un quarto posto e purtroppo vai in una categoria di corridori che non faranno mai la storia di uno sport no come si è detto come si è detto parla come si è detto no no vabbè sono i corridori che sono entrati nel ciclismo e ne usciranno senza lasciare traccia saranno scomparsi come quelli che dicevano come quelli che dicevano quelli che addirittura hanno vinto lì nella classifica di prima che sono sconosciuti questi corridori saranno sconosciuti tra qualche anno quando smetteranno perché non hanno lasciato traccia ma non con le vittorie nemmeno come visibilità quando te guardi una corsa non ti rimane niente non lasceranno traccia sono dei fantasmi ci sono ma non ci saranno più tra poco questa è la mia idea e io lo dico e lo ripetisco no è cruda come frase però ci sta dal punto di vista io sono da dare comunque sia dell'attenuanti per la sassotetto perché era veramente difficile ma la tappa di ieri andava fatta se volevi fare la differenza veramente al massimo rischiando di e invece non ho voluto rischiare non hanno voluto rischiare non hanno voluto rischiare lo so lo so hanno aspettato l'ultimo passaggio Almeida qualcosina ha fatto Landa ci ha provato però Roglic e ti devo dire quelli che hanno avuto più forza degli altri in tutti i giri che hanno fatto sono stati durissimi Beno ha fatto il lavoro della miseria l'ultimo giro non andava più su perché era finito Formula era finito e poi ci aveva una marea di che se loro avessero per esempio magari fatto gara a sé o fossero andati veramente in fuga Formula o le Beno non ti dico che arrivavano ma quasi avevano una gamba impressionante impressionante l'ho visti spingere da morire e lì c'erano degli strappi questa alleanza giù come l'ha vista lì cioè perché capisco che voglio dire io posso capire tutto perché se se Almeida vinceva o se un UAE vinceva perché McNutt è arrivato dopo la banda bastava che Almeida staccasse Adam Yates Adam Yates impalpante Almeida ci ha provato almeida all'ultimo giro nel pavè era primo all'ultimo giro del pavè quando ha fatto la curva per arrivare prima dove prima praticamente lui a 200 metri da dove sfianava era primo dopo gli è mancata gli ultimi 200 metri perché se lì prendi 10 metri 20 metri non li ripigli più perché le gambe sono attualmente pesanti che poi ti fai il pezzo in discesa e recuperi spingendo poi c'è c'è lo strappo di Dio Olimpia che è tutto un tirizzone ma è 400 metri e poi arrivi ma io sono un visionario Almeida che a me non piace però l'ho visto bene no ma ha fatto la sua corsa e va bene io sono un visionario però e dico questo io sono il direttore sportivo della UE come diceva il Magro allora il Magro c'è la sua opinione va bene aspetta un attimo fermo fermo qualcuno dice no la tappa dei muli non era terreno per Mas l'Ande almeida non ci sono dei muli vero ma dato che non ci sono ma dato che Ali Filippe è irriconoscibile per ora Van der Poel si tira fuori dalla lotta è terreno per loro e chi ci rimane scusa se c'era Pilcock in forma Van der Poel Van der Poel allora Filippe allora sì era terreno per loro ma se questi si tirano indietro per primi rimangono loro chi deve farlo non ho capito il ragionamento è perfetto scusa il ragionamento è perfetto c'era anche Birenk in ultima ruota per la gioia del mullà chi è? in Maglia Polti nel gruppetto famoso sul Van Tu c'era anche Birenk in ultima ruota in Maglia Polti se non sbaglio io sono sempre tifato questi che diventi voi ho sempre tifato per Belocchi parte fantastica Oseba Belocchi era il mio comunque se ero il direttore sportivo dell'Hawai io non avrei fatto morire Formula in quella maniera avrei è chiaro che se la fuga arrivava a un minuto là in quel caso lì l'uomo ce lo mettevo ma fino a un minuto io non avrei mosso il dito perché è la Jumbo che ha la maglia è la Jumbo che deve sprecare tutti gli uomini anche Roglic stesso se vuole tenere la maglia non è sbagliato sto ragionamento Fede ci può stare così facendo se Almeida vinceva se Almeida vinceva ti dico vabbè si sono presi la responsabilità ma perché ma Roglic ragazzi per battere Roglic un arrivo del genere non è che devi essere sicuro di poter vince devi essere sicuro sicuro e strassicuro ma Roglic mancava qualcosa e quindi ci hanno provato perché sanno che Roglic manca qualcosa perché non è stato il miglior non ci hanno provato hanno fatto vinci nel senso io guarda Roglic mi capo è come proprio guarda il commento di Gabriele che non è proprio perché mi dà ragione perché non c'è questione di ragione o no è proprio la mentalità capite questo è il commento l'Away metteva uno tra McNaughty e Adam Yates con Blasov Yates non ne aveva Yates non ne aveva bastanti negli strappi non era mai tra i primi mai ho visto Mastra i primi ho visto l'anno ma nemmeno Roglic ne aveva al Tour de France sul Granon ma fai finta vai in fuga stai lì il penultimo giro era appena dietro a Roglic l'unica volta su quello in Palais Roglic l'unica volta dei tre giri che è riuscito a stare nel pavè con i primi è quando l'ha tirato Van Aert Van Aert è andata a Saetta al penultimo giro e Roglic era dietro preciso perché gli ha preso la ruota e andava allo stesso ritmo nelle altre due occasioni Roglic era più dietro no dico a ruota di Roglic nel penultimo giro non c'era Yates allora Yates era davanti al penultimo giro sembrava in palla fino al penultimo strappo si il piazzamento come dice Gabriele la prima c'è gente che ha l'obiettivo il piazzamento di Battista Marco la UE ha preferito per prendersi una seconda posizione piuttosto di rischiare di vincere non tirando è un po' il mio pensiero un po' estremizzato ma alla fine di fin dei conti è così poi bastava effettivamente mette uno tra Yates e Mike Naughty in quella fuga di Blasov e allora sì che non dovevi far tirare Formula e sì che ti giocavi veramente le chance però se non ce l'hai messo alla fine Formula non è che ti serviva poi dopo quindi ho capito ma te dovevi far sprecare Van Aert Beno e farli morire molto prima dello strappo e a quel punto lì Roglic o sta fermo e perde ciao e allora a quel punto lì l'attacchi quando c'è più compagni di squadra cerchi di attaccarlo a 5-6-7 km al traguardo cerchi di portare via 2-3 corridori prendi vantaggio prendi lo strappo con 20 secondi 15-12 su Roglic e provi a giocartela con Bravo ancora davanti questa è l'arte qua scusate non è questo la UAE questa è l'altra questione del ciclismo di oggi il fatto è che il Griegario non lo vuole fare più nessuno tutti vogliono piazzarsi se il capitano si piazza primo o secondo tutti vogliono piazzarsi ottavo nono undicesimo tredicesimo anche quindicesimo va bene cioè è quello il punto il Griegario non lo vuole fare più nessuno guarda le strade bianche con Matteo dicevi le gambe che avevano Roglic ha vinto perché la Bora e la UAE ne ha messi tre nel top 15 probabilmente se la UAE e la Bora ne avevano uno capitano e gli altri Griegario come la Jumbo alla fine perché è caduto Kedem probabilmente anche a Roglic fa sempre fatica però in tutte le tappe hanno voluto tenere sempre la corsa guarda Matteo ti dico una cazzata questa cosa però è voluta Lindley Vlasov Almeida McNulty cioè tutti lì e dopo è chiaro che se giochi 4 contro 9 perdi perché raggiungo con il 9 guarda fatemi dire una cazzata se la Bora se la Bora avesse corso diversamente a sassotetto e non avesse puntato su Camna avrebbe vinto perché sono stati lì tutti a far ritmo per Camna quando Camna porca puttana con tutto se la Bora avesse corso come ha corso la Torino la Diatica il giro dell'anno scorso Indley non vinceva il giro perché la Torino non aveva corso per uno e hanno vinto il giro no Indley non aveva Indley era indietro no l'anno scorso hanno scelto un capitano alla fine l'anno scorso hanno battuto un capitano e hanno fatto hanno spaccato la corsa a Torino quest'anno volevano tenerli tutti lì non sapevano chi andava più forte tra Vlasov Indley e Camna e alla fine hanno fatto quattro nono e quattordicesimo ma in una corsa a tappe lunga la selezione la fa i giorni che trascorrono e le gambe che si perdono loro hanno cercato di tenere Camna hanno cercato di tenere Camna per via della cronaca aveva corsa con un clima migliore fortunato degli altri ha preso la maglia a buscio de culo come si dice perché l'ha presa con l'arrivo a Tortoreto dove era che ha preso la maglia prima ha arrivato un salitella ha preso la maglia hanno provato a difenderla a sassotetto è chiaro che però è vero che siamo all'atrinale di latico e non al giro d'Italia è chiaro che se ero al giro d'Italia era completamente diversa la situazione però in quel caso ti cerchi di fare una salita di sassotetto tutta con un ritmo tranquillo per Camna e quindi ti giochi praticamente i vari Indri ha fatto Indri su quella salita era il più forte poi la tappa di Muri è vero che non è stato al top perché non è la tappa per Indri è brillante invece Indri sul sassotetto era il più forte di tutti era l'unico secondo me che poteva fare ancora meglio di Caruso si attaccava perché ha fatto il ritmo davanti al gruppo fino a un chilometro del traguardo e hanno portato Roglic in carrozza cioè prima la Bora e poi la UAE la Bora nella tappa di sassotetto però vabbè è l'attenuante che aveva la maglia e la UAE l'attenuante che c'era al media che poi è arrivato secondo hanno aiutato tantissimo Roglic nel vincere a sassotetto e a Osimo è la storia però la squadra più coraggiosa resta la Bahrain una delle poche che cerca sempre di dare spettacolo provare ad attaccare con qualsiasi corridore che ha probabilmente gli manca il corridore di qualità attacca Poels attacca Buitrago attacca Caruso attacca E gli manca il vincente gli manca il fuoriclasse però nonostante ciò anche nelle gare spagnoli in precedenza ci provava sempre la Bahrain o con uno o con l'altro ci provava sempre quindi loro sono da stimare per quello che provano a fare nelle corse anche a Catalunia succederà la solita roba perché a Catalunia c'è a Giuso non si sa se ci va vabbè ci sarà meglio no Buitrago è stato imbarazzante che c'è l'ha aspettato tre volte si no l'aveva perso l'ha riportato dentro cioè roba ma 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 poi per cosa vanno 30 secondi a 40 km dall'arrivo cioè ma poi per cosa Buitrago si stacca in pianura nel senso se ce lo riporti a far dentro no davvero Buitrago è veramente male 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 vabbè han provato cioè tanto no ma provi con uno che non va però ma non è uno da strappi Buitrago è uno da salite lunghe che tiene ma vediamo eh vediamo era un minuto e mezzo da qui sia Buitrago per ora Buitrago secondo me è tante fiammate e poca continuità quando un corridore inizia inizia a fare due o tre gare da una settimana e si piazza a quel punto lì puoi pensare che sia un corridore da grandi giri che possa avere dei numeri quando invece vince puoi scompare per due mesi puoi riappare puoi scompare in compenso per sdrammatizzare appena abbiamo iniziato a offendere Gheoganarte è rinato vorrei vorrei dire a Gheoganarte te l'avevo detto te l'ha avuto no vogliamo parlare di Gheoganarte l'abbiamo offeso per mesi poi dopo è venuto fuori praticamente cioè Gheoganarte e Pinot un qualcosina ecco Gheoganarte invece non l'avevo detto non l'avevo detto non l'hai considerati no però un qualcosina l'hanno fatto appunto non me l'aspettavo cioè la tappa dei muri Gheoganarte cavolo è un metro e novanta e più perché è sessanta qui si torna il discorso Davide che ha voglia per essere sì la tappa non è per lui è per lui se c'ha la gamba per il giorno se non ce l'hai non vai è come il freddo l'anno scorso al Carpina c'era un grado Pogaccia due anni fa il tour l'ha venito su una tappa che diluviava è attaccato a 50 km 60 dell'arrivo è andato quello che abbiamo notato è che Pogaccia col caldo caldo forse patisce però se c'hai la gamba vai anche se piove vai anche se c'è freddo con il freddo quando uno va va quando non va non va se è mass è uno che non si capisce mai se va o non va invece rimane in quel limbo l'importante è che non ci sono discese è titubante è titubante nel senso che non lo sa neanche lui secondo me a volte si gira per dire ma io vado o non vado ma io sono in forma o non sono in forma ma io sono uno scalatore o no ma io sono un corridore o no non lo so non lo sa neanche lui si pone dei quesiti esistenziali poi quest'anno in squadra non ha neanche lo psicologo Valverde che magari lo aiuta in qualche situazione vedi a massa secondo me se lo trova gli dà due schiaffi comunque ragazzi che consigli al massimo vorrei chiudere la live così vorrei chiudere la live così però lo acquisti vedi perché va in salita perché in teoria andrebbe in salita però l'acquisti io non l'ho preso è uno che andrebbe in salita io non l'ho preso capito cioè quello che perché a me capa la gente che va in salita ragazzi l'ha messo obiettivo numero uno però ha qualche problema cosa cosa l'aveva messo come obiettivo numero uno e la pasta pazza il mullà perché lui è uno che in salita pazza il volume mullà non si sente ho detto che lui in salita è uno che andrebbe è uno che ce l'ha la salita il problema è che non so se è un complimento è uno in salita che andrebbe eh andrebbe cioè ce l'ha lo vedo che ce l'ha è un po' come se bella la condizione psicofisica è solo che se bella non va non va proprio capito lui no la condizione che deve avere per riuscire ad andare ci posso provare l'imitazione l'imitazione è che ti giri ti devi girare così non è che c'è sempre che sorriso che si cadenti fanno vedere i denti bianchi quando è al limite e poi però si gira indietro un attimo così ma non guarda gli altri guarda e dice ma io ma io cosa sto facendo vado non vado capito è una riflessione oh che ragazzo no mo la mo la aspetta siamo a tre ore e venti allora io concluderei così dicendo che oggi c'è stato un giallo perché Mass ci aveva abituato a essere lì in classifica e poi scomparire l'ultimo giorno di corsa e anche oggi ci ha riprovato oggi ci ha riprovato perché ha cambiato la bicicletta prima dell'arrivo e non aveva il trasponder dei dati quindi questo Christaz l'ha cancellato su BGS non lo davano più che è successo e quindi Mass è uscito dalla top 10 e ha detto vai è riascato un'altra volta e è risparito come l'anno rimorso ci aveva abituato non è arrivare nella top 10 e poi l'ultima trappa ci stava io c'avevo prodotto poi dopo invece poi è ritornato ragazzi ci vediamo giovedì per la live presa a remo ci puoi lasciare con un'imitazione del Blasov di questi no Blasov ormai è fatta l'avete visto che è così lo visto in diretta Blasov l'hai visto? più o meno più o meno l'ho visto in diretta non era proprio con un movimento anche perché hanno fatto la salita piano esatto diciamo che la salita era un po' diciamo che andava 15 all'ora e non era non è che era così tanto vabbè dai mi specializzo su masse dai anche se ci sarebbero arti del passato tipo Sastre e Mancebo anche che voi non so se vi ricordate Francisco Mancebo ricordate Matteo Davide ricordate Mancebo non mi ricordo meglio Sastre Mancebo ce l'ho un po' meno Sastre è tipo massa sorrideva Sastre era così lui era così continuamente una salita 20 kg 180 quando vinse il tour fece la fuga la solitaria recuperò era così era così se lo guardate lo ritrovate Mancebo era così semplicemente così non è difficile mani sul manovrio collo torto e via i nuovi fenomeni Mancebo erano grande coramello che è arrivato ora è arrivato ora grande coramello allora conquidiamo subito dicendo quanti scambi si dovrebbero avere ora 15 100 quanti scambi quelli di fede illimitati in campionato 15 io dico 15 ragazzi ciao a tutti per gli scambi ci vediamo giovedì sera per la live per Sanremo ciao Matteo ciao Davide ciao ragazzi buonanotte ciao a tutti